Buongiorno a tutti, ci sentite sicuramente, noi non possiamo sentirci perché parleremo con il settore domande e risposte, però vi diamo il benvenuto e la parola passa a Cristina Ambrosini, la dirigente del settore patrimonio culturale, buongiorno a tutti intanto. Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati, è un appuntamento periodico, comunque non è il primo che svolgiamo insieme, come sapete e come nostra abitudine intendiamo registrare questo webinar, il tempo che ci dedichiamo da adesso fino alle 13, quindi vi verrà chiesta l'autorizzazione dal sistema, lo registriamo perché potrà essere messo a disposizione sui nostri siti, sui nostri canali, in modo tale che poi possa essere riascoltato e rivisto per approfondimenti specifici. Come vi dicevo siamo noi del settore patrimonio culturale, ma insieme a noi anche do il benvenuto alla collega dirigente dell'area liquidazioni, la dottoressa Sabrina Gagliotto e al suo collaboratore Riccardo Pacchioni dell'area liquidazioni che si occuperà degli aspetti di cui parleremo in questo incontro. Con noi nel settore patrimonio culturale anche il dottor Giulio Dall'Orso, che molti di voi già hanno imparato a conoscere, penso nelle interlocuzioni telefoniche, nelle risposte alle richieste di chiarimenti, di approfondimenti che molti beneficiari hanno a posto al nostro settore. Oggi l'incontro è dedicato proprio a rispondere, a chiarire, ad approfondire, a dettagliare quegli aspetti che vi vedono tutti impegnati, soggetti beneficiari dell'investimento 2.2 architettura rurale del PNRR nella misura appunto di cui ci occupiamo come soggetto attuatore, la fase è quella della rendicontazione della liquidazione. Tutti i progetti ammessi e finanziati e che hanno accettato di procedere nell'attuazione sono appunto in piena fase di realizzazione. In alcuni casi alcuni sono arrivati al completamento e quindi ci stanno presentando o hanno presentato la documentazione per procedere poi agli adempimenti di verifica sulla rendicontazione e la liquidazione, altri hanno presentato la richiesta del SAL al 50%. Come sapete stiamo parlando di interventi e di progetti che riguardano l'architettura rurale dedicati a soggetti beneficiari privati, un investimento significativo interessante ma anche parecchio complicato, lo sappiamo, ne portiamo i segni e non solo voi, per quanto riguarda le procedure complesse ma soprattutto anche per il fatto che le regole del gioco, di un gioco che è partito ormai da due anni quasi, non sono state fissate dall'amministrazione titolare, cioè il Ministero della Cultura, in maniera definita e inalterata all'inizio, ma per quanto riguarda in particolare le regole che concernono la rendicontazione e la liquidazione, il punto fermo l'abbiamo avuto a maggio del 2024. È per questo motivo che con una capillare raccolta di tutta la documentazione che voi beneficiari attraverso il lavoro e la prestazione dei tecnici incaricati avete mandato, adesso siamo in grado, o quantomeno è un auspicio, è un nostro desiderio e speriamo che possa essere anche riscontrato da voi, siamo in grado di chiarirvi alcuni passaggi e gli elementi, i fattori, gli aspetti che abbiamo riscontrato essere più problematici per gran parte di voi. Come organizziamo il webinar? Dopo questa mia breve introduzione lascerò la parola alla collega Sabrina Gagliotto che entrerà ancora più nel dettaglio rispetto agli aspetti di cui si occupa la sua area, ma abbiamo cercato di far tesoro dei quesiti e delle domande che vi abbiamo chiesto gentilmente di anticiparci per strutturare alcune slide che saranno presentate dai nostri colleghi, da Lorenza, da Riccardo e da Giulio e li suddivideremo a gruppi tematici, sui temi, sugli aspetti problematici che ci attanagliano di più e al termine dei singoli sottolotti potremo aprire la fase della risposta alle domande che come vi ha anticipato Lorenza vi chiediamo di inserire appunto in domande e risposte, verranno lette e quindi cercheremo di dare conseguentemente le risposte che siamo in grado di dare. Nel caso si trattasse di casi ultra speciali e ultra particolari rimandiamo credo a un trattamento a parte con un contatto ad hoc. Io vi ringrazio per l'attenzione e per la collaborazione anche in questo webinar con questa modalità e lascio la parola a Sabrina Gagliotto. Grazie Cristina, buongiorno a tutti, non aggiungerei altro nel senso che sei stata molto chiara, solo un paio di puntualizzazioni. La mia area insieme appunto al dottor Riccardo Pacchioni e a tre consulenti esperti che ci supporteranno si occuperà di verificare tutta la documentazione amministrativa e contabile che voi avete già iniziato in maniera molto puntuale a trasmetterci. Qual è la nostra finalità? Sicuramente portare a buon fine il vostro investimento, che sia chiaro, nel senso che ci rendiamo conto che questi progetti su PNRR sono molto complicati per voi beneficiari, ma vi assicuro che anche per noi come soggetto attuatore intermedio tra appunto Ministero e voi non è stato facile. Noi, la mia struttura, abituata a lavorare con la Commissione europea, ci occupiamo in gran parte di progetti su FESR, sia verso imprese che pubblici. Devo essere sincera, la progettazione su PNRR sta mettendo a dura prova la nostra struttura, la struttura della dottoressa Ambrosini, però come regione siamo riusciti a creare buoni punti di contatto con i vari ministeri con cui ci interfacciamo sui progetti PNRR e siamo molto positivi. È chiaro che da parte vostra chiediamo la massima collaborazione, stiamo vedendo che grazie a Vade Mecum che abbiamo definito insieme, al punto di contatto sul sito, la possibilità da parte vostra di trasmetterci domande o punti informativi come quello di oggi, direi che sono molto ottimista e positiva. Vi lascerei, rassicurandomi, nel senso che per tutto quanto riguarda le verifiche, da parte nostra ci sarà sempre la massima collaborazione durante tutta la fase nostra istruttoria. Non vi spaventate se io, il dottor Pacchioni, tramite mail, piuttosto che con un'interlocuzione diretta, i nostri consulenti magari vi chiamiamo, vi sollecichiamo. Ribadisco, la nostra finalità è portare a buon fine il vostro investimento, garantire la verifica delle milestone e da parte nostra poi il caricamento di tutta la documentazione su Regis, che non è una banalità. e per questo ve lo dico già e vi chiedo scusa, forse dal vostro punto di vista potremmo risultarvi vessatori, ma veramente la nostra finalità è, ripeto, portare a casa il risultato insieme a voi e l'investimento. Chiaramente per farlo noi dobbiamo essere certi che tutta la documentazione sia puntuale e nel momento in cui noi la caricheremo su Regis dobbiamo avere questa certezza. Non aggiungo altro, lascio la parola a dottoressa Bolelli per ulteriori indicazioni e passerei subito alla parte operativa. Grazie a tutti. Grazie, grazie Sabrina. Una specifica, come avrete notato non è possibile mandare delle chat, ma soltanto delle domande nella sezione domande e risposte. Le domande non le vedrete contemporaneamente tutte, ma verranno, diciamo così, lavorate e vi sarà data risposta, man mano affronteremo il tema che i colleghi con le slide vi vi proporranno. Una precisazione, queste slide che vedrete sono frutto delle vostre interlocuzioni e dei dubbi e dei problemi che ci avete più di una volta sollevato e che sono anche arrivate attraverso il form di iscrizione. Chiedo soltanto per fare una prova, diciamo, testo, di mandare qualche domanda, anche se non ci sono ancora dei quesiti aperti direttamente, solo per fare una prova tecnica e vedere se tutto funziona da un punto di vista proprio di partecipazione. Intanto vi dico che questa è registrata. Perfetto, vi vedo, ottimo, molto bene. Vi dico subito che è un webinar registrato, quindi potrete trovare, come ha detto anche la dottoressa Ambrosini, questa registrazione anche sul nostro sito. E non perdo tempo, passo subito la parola al collega Giulio Dall'Orso che vi comincerà ad illustrare i requisiti che sono arrivati fino ad oggi. Grazie mille. Buongiorno, un saluto a tutti i partecipanti. Inizio la condivisione delle nostre slide. Spero che si vedano correttamente. I miei colleghi mi possono dare conferma? Sì. Bene. Come è già stato detto, abbiamo cercato di raccogliere le questioni emergenti e ricorrenti. Quindi speriamo con questo di togliere il maggior parte dei dubbi che ci sono. La prima questione che vi poniamo è quella dell'informazione, comunicazione e pubblicità, detto in maniera più semplice il tema dei loghi. Il regolamento OED 2021-241 ci impone di garantire la visibilità dei risultati degli investimenti. Quindi gli obblighi sono in capo ai soggetti attraettori e ai beneficiari. Quindi tutti i beneficiari dovranno mostrare correttamente, in modo visibile, in tutte le attività di comunicazione, il progetto di progetto, l'emblema dell'Unione Europea, con la dichiarazione che questo progetto è finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU. Quindi questa previsione non si limita alla cartellonistica di cantiere, che deve comunque essere chiaramente conforme a quello che indica il VADEMECU, e non solo alle eventuali targhe che vengono apposte sull'edificio restaurato e reso offribile al pubblico, o sulle indicazioni per raggiungere l'edificio, ma in tutte le attività di comunicazione al pubblico. Quindi eventuali siti dove si fa comunicazione, eventuali brochure che vengano pubblicate e così via. Non strettamente necessario nelle comunicazioni non pubbliche, quelle tra l'amministrazione e il beneficiaio. Tuttavia anche gli allegati di contazione li abbiamo aggiornati aggiungendo i loghi dell'Unione Europea. Quindi se dovete mandare comunicazione, utilizzare modulistica, andate a verificare la modulistica aggiornata che contiene già i loghi recenti. Sono i loghi aggiornati. Detto questo che può essere più relativo, questo argomento è relativo insomma all'immagine, andiamo invece ad un argomento ricorrente per alcuni e abbastanza delicato, che è quello del conflitto di interessi. Tutti i beneficiari sono obbligati a notificare alla Regione qualsiasi situazione che possa costituire un conflitto di interesse o un interesse professionale confliggente durante l'esecuzione dell'intervento. Per tutti i beneficiari quindi è necessario presentare l'allegato 14, dove si dichiara di non avere situazioni di conflitto di interesse, fermo restando che i nostri uffici dovranno fare delle eventuali verifiche qualora appaia un potenziale conflitto di interesse. Abbiamo, faccio un esempio, abbiamo per esempio verificato in alcuni casi omonimia tra il beneficiario e il progettista. È risultato che è una semplice omonimia e non c'era nessun tipo di legame, di parentele eccetera, però anche da parte nostra alcune verifiche le dobbiamo fare quando ci sono degli elementi che facciano sospettare un potenziale conflitto di interesse. Dove invece il conflitto di interesse c'è, anche se solo potenziale, il beneficiario è tenuto o a risolverlo, superando il conflitto di interesse o a giustificarlo. Quindi dovrà usare sempre l'allegato 14, però non dichiarando che il conflitto non esiste, ma ammettendo che un conflitto potenziale c'è e giustificando il perché, nonostante il potenziale conflitto, intenda procedere con quel professionista o con quella ditta esecutrice. Il superamento nei fatti del conflitto di interesse lo si può risolvere quando, ah, c'è una oggettiva motivazione tecnica o economica che faccia scegliere quel determinato professionista o quella determinata impresa esecutrice o c'è una convenienza economica che lo giustifica. La convenienza economica viene dimostrata con la presentazione di un numero adeguato, almeno tre preventivi, verificando che ci sia effettivamente questa convenienza economica, preventivi che devono essere in epoca corrispondenti alla scelta, alla valutazione, se non esattamente contestuali, almeno comunque la valutazione deve essere fatta nello stesso tempo e poi se si tratta di esecuzione dei lavori non può basarsi unicamente sulla convenienza economica perché occorre che debbano essere verificate le quantità e la qualità delle lavorazioni effettuate sulla base di giustificativi di spesa che siano asseverati da un soggetto terzo che garantisca il principio di imparzialità e indipendenza rispetto al committente e all'apportatore. Quindi bisognerà che il direttore lavori assicuri questo e quindi la rilasci una apposita dichiarazione 445 in cui dichiara di poter garantire questa imparzialità e indipendenza. Stessa cosa vale quando il conflitto di interesse c'è tra beneficiario e progettista. Sarà quasi impossibile che sia il direttore lavori lo stesso parente del beneficiario perché non potrebbe essere verificata questa situazione di terzi età nella valutazione delle quantità e qualità delle lavorazioni effettuate. Fermo restando che deve esserci anche la motivazione di convenienza economica. Non so se avete già qualche domanda da porre su questo tema. No, direi che puoi proseguire Giulio perché per ora le domande che vedo sono pertinenti ad altri aspetti che sono quelli dell'anticipazione e in particolare del SAL quindi la liquidazione del SAL. Bene, allora procedo con un altro allegato giusto perché non ce ne facciamo mancare mai di allegati e quindi l'allegato 15 del Vademecum che è quello che riguarda la dichiarazione sul titolare effettivo. La dichiarazione del titolare effettivo deve essere rilasciata dal soggetto beneficiario quando questo non è persona fisica. cioè se si tratta di impresa o comunque di soggetto giuridico persona giuridica privata e per le persone giuridiche come le associazioni se hanno personalità giuridica riconosciuta. Qualora un'associazione non abbia il riconoscimento della personalità giuridica si presuppone che l'affettiva titolarità sia in capo al legale rappresentante che ha i poteri di rappresentanza. Ma non è sufficiente la dichiarazione del titolare effettivo per il beneficiario occorre, questo è specificato nel Vademecum occorre che la titolarità effettiva sia dichiarata anche dai soggetti a cui vengono affidati lavori o servizi e quindi per i medesimi soggetti deve essere prodotta la dichiarazione del titolare effettivo sempre che non siano persone fisiche o imprese individuali. Il tema di affidamento abbiamo chiarito con il Ministero che non si considererà affidamento la mera acquisizione di beni o forniture di materiali di consumo che sono ordinariamente reperibili sul mercato cioè non c'è nessuna trattativa e quindi poiché questa della titolarità effettiva è una norma anticorruzione è poco sensato applicarla nella semplice acquisto di prodotti che possono essere acquistati da chiunque quindi questo riguarda il titolare effettivo altro punto siamo sempre sulla modulistica la comunicazione di inizio lavori ricorderete che l'avvio dell'attività o dei lavori è affissato entro il 30 giugno 2023 abbiamo conosciuto c'è stato così indicato dal Ministero che è sufficiente l'effettivo inizio delle attività entro quella data per cui abbiamo accettato insomma la prova dell'inizio dell'attività riconoscendo negli allegati 4 sulla relazione periodica il riscontro che le attività era iniziata anche solo con l'affidamento alla progettazione con alcune attività preliminari l'allegato 18 è invece riservato alla comunicazione effettiva dell'inizio lavori quindi l'accantieramento la presentazione dei documenti all'amministrazione comunale la notifica preliminare e così via cioè che ci sia un effettivo inizio dei lavori taluni hanno utilizzato l'allegato 18 per comunicare un avvio dell'attività e non l'effettivo inizio lavori occorrerà che questo allegato 18 che noi abbiamo verificato non conforme alle motivazioni per cui è stato pensato dovrà essere ripresentato da chi ha usato l'allegato 18 per comunicare inizio attività ma non l'effettivo inizio lavori dovrà ripresentare l'allegato 18 con l'inizio lavori quando effettivamente questo si è verificato l'allegato 18 andrà corredato da documenti probatori fra cui l'asseverazione del direttore lavori analogamente all'allegato 19 che sarà la comunicazione di fino lavori che dovrà essere asseverata anche dal direttore lavoro forse possiamo fermarci lasciare che qualche domanda sia arrivata nel frattempo grazie Giulio sostanzialmente rispondo a questa SRL che chiede buongiorno dove è possibile reperire il Vademecum completo a cui fate riferimento il Vademecum è disponibile già dall'inizio del 22 nel sito del patrimonio culturale alla fine se ci sarà tempo vi farò vedere anche una prova di navigazione così tutti potranno vedere dove trovare questa informazione e poi di nuovo nel caso sopraggiunto potenziale conflitto di interessi tra progettiste benecimizzati si può cambiare i progettiste in un secondo momento risponde Giulio a questo punto visto che ha trattato il tema grazie se il conflitto di interesse è verificato successivamente perché interviene successivamente può essere risolto nel momento deve essere risolto nel momento in cui interviene il conflitto perché il Vademecum ci ricorda che deve tempestivamente intervenire il beneficiario quando si verifica il conflitto di interesse ricordo che è particolarmente delicato il conflitto di interesse sulla direzione dei lavori piuttosto che sulla progettazione che sulla progettazione può essere superato dalla mera convenienza economica e abbiamo avuto casi in cui il professionista incaricato di progettazione era legato in qualche modo al beneficiario ma magari è operato pro bono quindi insomma non ha la convenienza economica e era garantita da questo fatto diversamente non è superabile nella direzione dei lavori perché c'è un ruolo non c'è solo un elemento economico che interviene ma una certificazione da parte del direttore dei lavori che i lavori siano effettivamente eseguiti eseguiti in quelle quantità sì è una questione a cui posso rispondere anche io direttamente quella di Camilla Rossi che chiede che ha dice che ha usato i loghi per la realizzazione del sito ufficiale volevo sapere se poteva andare bene come forma di pubblicità sì confermiamo che va benissimo e vi invitiamo anche per chi non ha presentato ancora gli allegati a scaricare gli allegati a cui noi abbiamo già posto dei loghi per rendervi più semplice l'operazione di apposizione dei loghi che sono come sapete da Vademecum una delle questioni necessarie soprattutto nella pubblicità dell'intervento la cosa fondamentale è prima di tutto il discorso sulla sulla cantirizzazione e quindi il cartello di cantiere le targhe da apporre quando avete terminato l'intervento e tutte dove è possibile sia legati che nei progetti la posizione dei loghi che sono stati indicati dal Vademecum ecco il Chiara Berti sempre a questo proposito chiede dice che hanno chiuso il progetto il 31-12-23 e dice dobbiamo stampare tutti i materiali di nuovo per apporre i loghi la brochure il libro allora è buona regola anche per non avere dei problemi con le ispezioni dell'Unione Europea apporre i loghi in tutti i materiali che sono oggetto di pubblicazione di pubblicità quindi dal cantiere alla targa sull'intervento a tutti i materiali che vengono fatti e resi utili per la pubblicità del progetto e di quello che si fa dentro al progetto finale quindi la destinazione d'uso quando si fanno delle attività pubbliche in particolare per chi non lo avesse fatto si prega di farlo negli ambiti minimi quindi cantiere pubblicazioni e targhette altre questioni aggiungo solo un particolare effettivamente il concetto di informazione comunicazione pubblicità dell'articolo 34 è un concetto chiave dei controlli anche successivi quindi ricordatevi sempre ogni comunicazione esterna deve avere le caratteristiche anche delle nostre slide cioè la presenza dei vari loghi mi raccomando perché i controlli non terminano con la liquidazione ma possono essere anche successivi e questo materiale deve essere conservato deve essere data prova che è stato rispettato tale principio trasversale scusate io direi che possiamo procedere perché le domande vi chiedo solo uno sforzo visto che capisco che i temi sono tanti e molto anche personalizzati di cercare di fare delle domande che non attengono al proprio progetto nello specifico ma che possono essere utili per tutti poi per il progetto nello specifico abbiamo una posta dedicata che è architettura rurale chiocciola regione punto emilia romagna emilia trottino romagna punto it dove ci potete chiedere come abbiamo fatto fino ad ora a due anni a questa parte tutte le cose che attengono al vostro progetto nello specifico grazie mille giulio se vuoi procedere sì credo andiamo a toccare un tema che ha fatto generare molti dubbi anche perché probabilmente non è espresso in una maniera inequivocabile nel nel vademecum il quando il beneficiario può chiedere l'erogazione del sal stato d'avanzamento quando è pari al 50% del contributo finanziario concesso come indicato nell'atto d'obblighi sottoscritto quindi il contributo finanziario come sapete non è modificabile se si modifica l'importo di progetto perché sono lievitati i costi perché ci sono aggiunte o se si riduce perché ci sono dei cambiamenti vanno tutti comunicati come variante ma il contributo finanziario non può modificarsi a meno che non venga ridotto perché si riduce significativamente il progetto quindi il sal può essere chiesto al raggiungimento del 50% del contributo finanziario concesso indipendentemente dal costo complessivo del progetto cioè se il contributo è di 150.000 75.000 di contributo si può chiedere il sal anche se il progetto ha un importo decisamente superiore quindi non occorre raggiungere il 50% di realizzazione del progetto a condizione però che il beneficiario abbia già sostenuto spese corrispondenti al 50% del contributo concesso ora qui nasce un po' spesso la domanda come deve essere inteso questo 50% allora se il contributo concesso è pari al 100% non ci sono problemi perché c'è una sostanziale coincidenza tra le spese da rendicontare il contributo che viene chiesto quindi con un contributo di 150.000 le spese devono essere rendicontate pari a 75.000 ma se il contributo è pari all'80% per un contributo di 150.000 le spese da rendicontare devono essere pari a 93.750 perché solo 93.750 euro all'80% determinano i 75.000 euro che sono il 50% del contributo se il contributo è pari all'80% per esempio con un contributo di 100.000 euro le spese rendicontate dovranno essere pari a 62.500 perché l'80% di 62.500 fa il 50% del contributo in altri termini se il contributo è pari al 100% delle spese le spese rendicontate saranno almeno pari al 50% del contributo se il contributo è pari all'80% delle spese le spese da rendicontare saranno meno pari al 50% del contributo moltiplicato per 1,25 per il coefficiente 1,25 perché solo così l'80% fa corrispondere le spese al 50% del contributo bene a questo punto per andare sempre sui temi che abbiamo trattato c'è una domanda del dottor Antonio Gottarelli che mi dice mi confermate che la dichiarazione del titolare effettivo non vale per le forniture Giulio se vuoi approfondire vado avanti io allora per le forniture dobbiamo fare questo ragionamento se è grande distribuzione allora non è necessario questo passaggio per cui non è necessario fare nessuna comunicazione acquisire magari la dichiarazione del titolare effettivo se stiamo invece parlando di un elemento significativo delle lavorazioni come può essere tutta la parte relativa alla fornitura di infissi che ha un'incidenza importante sui lavori in quel caso il titolare effettivo dovrà essere appurato quindi in soldoni se io mi rivolgo alla grande distribuzione devo andare a comprare qualche centinaia di euro di prodotti in una delle aziende che troviamo nei nostri territori non è un problema andare nell'edilizia non devo andare di certo a chiedere la dichiarazione del titolare effettivo in una struttura così complessa come potrebbe essere tali tipi di di negozi o attività se invece la fornitura è incidente allora dobbiamo andare a vedere anche in quel caso chi è il titolare effettivo e dovrà essere acquisita la dichiarazione spero di essere stato chiaro sì direi che è stato per noi chiarissimo almeno allora va bene c'è anche la domanda volevo rispondere già che c'è l'occasione di Angela un attimo solo Angela Maria Berdondini che mi chiede se abbiamo se hanno già inviato l'allegati relativamente al sal con la modulistica che rappresenta dicembre 2003 questo va benissimo ovviamente per quelli che invece devono fare la richiesta adesso useranno la modulistica nuova discorso a parte è l'eventuale aggiornamento degli allegati per i quali abbiamo delle indicazioni per esempio dal ministero e relativamente ai quali vi arriva una nota specifica dove vi si invita magari a ricompilare un allegato che avete già trasmesso perché magari si è aggiornato perché le richieste relativamente a quelle allegate sono state aggiornate dalle linee guida del MEF o dall'indicazione del ministero della cultura e quindi in quel caso ci scusiamo ma dovrete rinviare magari un determinato allegato questo in realtà di solito quando si chiede un aggiornamento di un allegato è per acquisire ulteriori informazioni che a noi servono per caricare quel documento su Regis e per soddisfare magari che è il sistema informatico e informativo che serve per la rendicontazione dei vostri progetti e che magari quella dichiarazione contiene e la precedente non lo prevedeva ed è il caso dell'allegato 16 che avete ricevuto e dopo andremo poi a vederlo nello specifico perché è una domanda specifica che tratteremo in una slide si segnalo anche a Riccardo la domanda di Giulia Mirri che dice buongiorno a tutti nella prima rendicontazione di dicembre 2023 abbiamo indicato un'ipotesi di spesa stimata dal nostro tecnico la prima fattura dell'impresa comprendente l'avanzamento dei lavori fino al momento però risale a marzo 24 è successivamente saltato ad aprile comunque corretto allora prima di passare la parola a Riccardo eventualmente vi chiedo la cortesia di non entrare nello specifico così particolare dei vostri progetti e di farne dei casi più generali fate questo sforzo perché effettivamente oggi altrimenti dovremmo affrontare il tema particolare di ognuno ecco se qualcuno qui andremo a vedere la coerenza poi della fattura che loro ci presentano quindi ci limitiamo alle fatture che ci presentano in sede di saldo poi si andrà a rivedere tutte le fatture trasmesse relativamente al progetto e la coerenza delle stesse con il progetto quindi diciamo che il problema non si pone da come è stato evidenziato mentre io credo di avere ancora diciamo così non evaso una domanda di Enrica Sezzi forse per Giulio nel caso di sopraggiunto potenziale conflitto di interessi tra progettista e beneficiario si può cambiare il progettista in un secondo momento mi sembra di avere già risposto il tema è molto legato più alla direzione lavori che al progettista comunque il progettista si può cambiare e il progetto che avete presentato è stato valutato da una commissione e aveva la firma di un progettista nulla vieta che il progetto esecutivo o successivamente il progettista cambi così come alcuni hanno cambiato il codice IBAN perché hanno modificato il conto corrente sono tutti cambiamenti che avvengono in corso d'opera non ci siamo e non vi siete incatenati a una situazione originale e modificabile tutto quello che è oggetto di modifica va comunicato e nella comunicazione di cambiamenti di progettista e imprese esecutrici dovrete sempre verificare che non ci sia una situazione di conflitto di interesse se ci fosse dovete notificare con l'allegato 14 e motivarla adeguatamente volevo fare solo una precisazione in merito a eventuali quesiti sui tempi di liquidazione vi ricordo come già anticipato dalla dottoressa Ambrosini che alcune regole del gioco usiamo questo termine ovvero alcuni strumenti che possiamo utilizzare per poter noi rendicontare i vostri progetti al MIC al Ministero della Cultura e al MEF ci sono stati chiariti e ci sono stati forniti solamente nel maggio scorso quindi noi siamo in grado di essere operativi per le liquidazioni solo dal mese scorso e al più presto procederemo alle liquidazioni dei sal e dei saldi che sono stati presentati bene a questo punto possiamo procedere con gli altri slide con gli altri quesiti ritorno allora sul tema del rendicontazione dei pagamenti delle spese sostenute un'altra domanda chiarita l'aspetto dell'80% 100% di come si calcola il 50% del contributo passerei a un'altra domanda che è ricorrente cioè le maggiori spese abbiamo ampiamente detto e chiarito e ribadito che le maggiori spese rimangono a carico del beneficiario e molti beneficiari convinti e certi di questo non hanno pensato di notificarci gli eventuali cambiamenti e maggiori spese rimanendo ancorati al quadro tecnico-economico originario quando poi si va in rendicontazione riscontriamo delle differenze tra i costi e le spese sostenute e quanto presente nel quadro tecnico-economico quindi le eventuali maggiori spese che restano a carico del beneficiario comportano una variazione del quadro tecnico-economico e quindi costituiscono una variante al progetto e quindi da comunicare con l'allegato 17 del VADEMECUM l'allegato 17 servirà anche con la relazione di accompagnamento che è una relazione di accompagnamento motiva giustifica esplicita le variazioni con l'allegato 17 si dovrà specificare se queste maggiori spese rientrano nelle spese ammissibili che dovranno essere rendicontate parimenti alle altre spese quindi dovranno avere CUP dovranno avere indicazioni dell'ID dovranno avere tutte le caratteristiche delle spese ammissibili o si rientrano nelle spese non ammissibili perché per esempio coperte da altri bonus fiscali o perché fatti in economia o perché utilizzano acquisto di beni usati o cose del genere per esempio in molte situazioni è stato previsto questo tipo di intervento per le finiture o per l'acquisto di arredi quindi l'allegato 17 specificherà le spese ammissibili le maggiori spese come spese ammissibili o come spese non ammissibili per le spese ammissibili si dovrà rendicontare con tutti i carismi della rendicontazione le spese non ammissibili dovranno comunque essere dimostrate con le relative prezze giustificative ai fini dell'accertamento che il progetto sia stato realizzato nella sua interezza faccio un esempio a titolo esemplificativo molti progetti hanno previsto l'impianto fotovoltaico alcuni beneficiari ci hanno comunicato che l'impianto fotovoltaico verrà realizzato a cura e spese del beneficiario e rientrerà nelle spese non non ammissibili perché magari coperto da un bonus fiscale eccetera ma l'impianto fotovoltaico è parte integrante del progetto stesso quindi andrà dimostrato che è stato realizzato perché se no si andrebbe a inficiare la completezza di un progetto che è stato approvato dalla commissione adesso mi fermerei qui forse c'è Grappe Giulio perché ci sono delle domande sempre sul conflitto di interessi che continuano ad arrivare quindi torniamo su un discorso su questo quesito che evidentemente è uno degli elementi di criticità maggiore allora leggo Chiara Preti che dice riguarda l'allegato 14 nel mio caso sono committente proprietaria e anche progettista c'è conflitto di interesse credo di poter dare la parola a Giulio che su questo tema ha affrontato e poi poi magari li mettiamo insieme due quando va presentato l'allegato 14 che come sapete è quello appunto del nodo di conflitto di interesse l'allegato 15 che è quello sulla titolarità quindi va presentato anche da progettista impresa se società e chi lo deve firmare? Giulio? Lo assurde ritorniamo su questo conflitto di interesse se il beneficiaio e il progettista coincidono c'è un evidente conflitto di interesse che potrà essere superato dichiarando che la progettazione avviene gratuitamente quindi che il beneficiaio si fa carico del costo di progettazione e non fa un'autofatturazione o se deve fare un'autofatturazione questa autofatturazione non è tra i costi ammissibili tra le spese ammissibili sull'esecuzione del lavoro che sia distinta dalla direzione dei lavori e relativamente all'allegato 15 che Lisa Rovery ci chiede quando va presentato l'allegato 14 e se l'allegato 15 va presentato anche da progettista impresa se società chi lo deve firmare? Sì se società sì va presentato anche dalla società cioè una società di progettazione e gli allegati 14 e 15 vanno presentati come diceva De Meco al momento della prima richiesta di pagamento bene come altre domande vediamo ce n'è una relativamente al CUP che forse interesserà anche Riccardo buongiorno rimanendo in tema fatture leggo Maria Giovanna Serra pertanto se si è posto in fattura unicamente il CUP in data antecedente l'uscita del Vademecum riportare il resto della dicitura è necessario inserire tali fatture tra quelle necessitanti di riconducibilità oppure vanno bene senza altre azioni necessarie allora se c'è già il CUP noi siamo a posto da quel punto di vista perché è uscito dopo l'uscita del Vademecum ma mi chiedo è uscita dopo la firma della convenzione dell'accordo e questo magari se è antecedente anche a quello a quel punto la inserite nella riconducibilità ad ogni modo già il CUP sana buona parte delle criticità che noi andiamo a rilevare in sede di verifica ecco un'altra domanda sempre sul tema CUP buongiorno Davide Baeguera chiedo se potete chiarire cosa vado indicato nelle fatture per le spese non ammissibili allora per le spese non ammissibili sono quella parte in cui non è necessario indicare che si tratta di un finanziamento PNRR però per coerenza facendo parte dello stesso progetto sarebbe necessario indicare il CUP bene sempre il discorso del conflitto di interessi Chiara Preti ci dice che lei è anche direttore dei lavori ecco penso che questo sia uno degli elementi che Giulio ha ben spiegato perché ci vuole una terzietà anche per superare il discorso del conflitto di interessi sul discorso soprattutto della conformità della rendicontazione delle opere dimmi Giulio se sbaglio questa è la linea che abbiamo adottato concordata anche col Ministero in primo luogo va notificato quindi bisognerà che il beneficiaio e al tempo stesso il progettista lo notifichi nella notifica che ci fa riceverà una risposta dove noi daremo il RUP responsabile del procedimento darà una risposta e dirà quali condizioni devono essere messe in atto perché possa considerarsi superato il conflitto è un'analisi che andiamo a fare caso per caso comunque bene direi che altre domande per ora su questo tema non ci sono possiamo andare avanti con le nostre slide Giulio sempre sul rendicontrazione delle spese le spese devono essere corrispondenti a quanto effettivamente eseguito devono essere coerenti congrue e congruenti la congruenza è data dal tipo di spesa che cosa si riferisce alla spesa relativamente all'intervento quindi dovranno essere spese che siano congruenti col progetto e non diformi dal progetto presentato e soprattutto devono essere congrue congrue vuol dire di importo corrispondente al valore delle prestazioni o delle lavorazioni quella verifica di congruità il bando ha precisato che bisogna fare riferimento al preziario regionale di riferimento delle opere pubbliche della regione Emilia Romagna i progetti si sono diciamo dislocati temporalmente in un arco di due anni quasi quindi abbiamo progetti iniziati già nel 22 progetti che hanno preso l'avvio nel 23 nel frattempo i prezzi hanno avuto anche una lievitazione quindi la individuazione cambia la scelta che è stata fatta ed è stata determinata dalla regione che sia utilizzato il preziario regionale vigente al momento dell'affidamento dei lavori quindi se si tratta di lavori affidati nel 22 si utilizzerà il preziario regionale del 22 perché è in quel momento che si è formato il contratto se l'affidamento dei lavori è avvenuto successivamente potrà essere preso in esame un preziario successivo comunque non oltre il 30 giugno 23 perché entro il 30 giugno 23 tutte le attività dovranno essere avviate quindi si farà riferimento per la verifica di congruità dei prezzi quindi per il computometrico consuntivo che sarà utilizzato per dimostrare la congruità delle fatture pagate si potrà fare riferimento al preziario vigente al momento dell'affidamento dei lavori al più tardi e non oltre il 30 giugno l'ultimo preziario regionale delle opere pubbliche è stato pubblicato dalla regione sul bollettino ufficiale telematico numero 88 del 30 aprile 23 parte seconda dove c'è il preziario 2023 una domanda sempre sul cup prima di passare all'allegato 16 bis che vedete già nella slide è una domanda per Riccardo il cup ecco il cup è da indicare sicuramente nella descrizione della fattura ma anche nella struttura della fattura elettronica domanda sul tema ci sarà una slide specifica che poi vi andrò a descrivere confermo nella fattura elettronica c'è un campo specifico e ci sono delle indicazioni specifiche del MEF dove va inserito il cup e la descrizione che poi andremo a vedere e vi ripetirò in una slide che ha uno suo specifico compito che vi descriverò comunque la fattura elettronica ha due campi fondamentali che bisogna dare come riferimento magari all'impresa o al commercialista e via dicendo che sono rappresentate dal campo cup che è un campo specifico e dal campo note dove vanno inseriti poi tutti gli elementi che vi avevamo scritto nel va de me con di inserire dopo poi approfondiamo ecco credo che Giulia abbia finito le sue slide di competenza e puoi passare tu Riccardo a condividere le tue passo la parola al collega il microfono Riccardo dovreste vedere tutti la mia presentazione che essenzialmente prosegue di quella del collega di Giulio buongiorno a tutti io parto dalla legato 16 bis la dichiarazione di assenza dopo il finanziamento che vi è arrivata nel corso del mese di maggio con una specifica nota e che vi abbiamo chiesto di compilare il tutto nasce da che cosa da essenzialmente uno dei concetti chiave della 241 del 2021 che tratta il PNRR che è l'articolo 9 l'articolo 9 consente quella che è la sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico ma a condizione che le stesse forme di sostegno non coprono lo stesso costo diversamente ci troviamo in una situazione che è considerato un doppio finanziamento nell'ambito del PNRR poi il concetto di doppio finanziamento è ancora più ampio perché non si limita essenzialmente alla stessa tipologia di costo ma al concetto di performance che in pratica il PNRR dice con le risorse PNRR devi coprire quel determinato obiettivo quella determinata performance questo come si estrinseca per voi essenzialmente in un nuovo allegato 16 bis che vi abbiamo chiesto di compilare e che ha una parte tabellare che potete vedere in basso a sinistra nella slide che deve essere compilata per consentire a nostra volta di caricare il vostro allegato sul sistema informativo di gestione dei contributi e che è rappresentata da come vedete tre righe più l'importo complessivo del progetto nella prima deve essere indicato il finanziamento pubblico relativo al PNRR nella seconda altre fonti di finanziamento che potrebbero essere credito d'imposta altri tipi di finanziamento nazionali per esempio e nella terza dove abbiamo scritto altre fonti di finanziamento non pubbliche in teoria si mette quella che è la parte che voi andate a finanziare senza bisogno di ulteriori specificazioni la sommatoria dei tre deve fare l'importo complessivo del progetto questo è un dato fondamentale che richiederà poi da parte nostra dei controlli incrociati per verificare appunto che non si crei la fattispecie del doppio finanziamento che vi ho appena descritto ovviamente la criticità principale che vi voglio evidenziare è questa se ci troviamo di fronte a più finanziamenti europei c'è di base il rischio del doppio finanziamento per cui noi faremo dei controlli su tutte le vostre dichiarazioni ma anche a prescindere dalla dichiarazione attenzione perché appunto strumenti un progetto finanziato da fonti PNRR non è compatibile con altre fonti UE vado avanti altro elemento chiave che è emerso soprattutto nei primi controlli e dei sal che sono giunti si ricorda che con la rendicontazione delle spese dovrà essere inviata la documentazione relativa all'idonità tecnico-professionale dell'impresa nel Vademecun c'è scritto c'è un esempio iscrizione alla Camera di Commercio il DURC una DISA di non essere sottosposte a provvedimenti restrittivi dichiarazione antimafia certificazione SOA o dichiarazione antiriciclavo già ove necessario questa parte dell'esempio è essenzialmente presa un po' dal mondo degli appalti pubblici vi abbiamo aggiunto però un particolare come vedete nella slide la documentazione sempre richiesta minima è per una vostra impresa un operatore economico a cui avete dato un incarico di eseguire per esempio dei lavori è l'iscrizione alla Camera di Commercio ed il DURC ovviamente se ci troviamo di fronte a un intervento di restauro su beni vincolati sarà necessario avere la certificazione SOA e quindi dovete fornircela oppure in alternativa ecco che vi abbiamo posto quella che è l'alternativa diciamo che consente di superare la SOA ovvero se la dita eseguitiva lavori direttamente in proprio antecedentemente alla pubblicazione del nostro bando o alla data di un invito ad una gara ufficiosa in questo caso è un'ipotesi teorica con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro può essere superato il concetto di SOA purché la dita sia iscritta alla Camera di Commercio e allo stesso tempo abbia un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 8 sull'ideunità organizzativa del decreto legislativo 50 2016 quindi o certificazione SOA o i tre requisiti che vi abbiamo espletato nella slide se non ci sono domande io procedo con un punto relativo anche a precedenti quesiti che è il codice unico di progetto il famoso CUP allora tutti i documenti giustificativi di spesa compresi i pagamenti quindi bonifici bancari devono sempre riportare il codice unico di progetto nonché l'indicazione della misura cioè la missione la componente e l'investimento come vi ho evidenziato in giallo questo deve essere riportato in tutti i giustificativi di spesa oltre al titolo di progetto e l'ID della domanda vedete vi ho messo in grigio quello che è estratto dal nostro vado e mecum questo deve essere presente nelle fatture dove deve essere indicato nelle fatture se dovete dare indicazioni precise il CUP ha un campo specifico nelle fatture elettroniche mentre per quanto riguarda tutti gli altri elementi possono essere inseriti di solito nel campo note che è un campo che lascia abbastanza discrezionalità e dove essenzialmente un operatore colui che vi redige la fattura può operare andando a inserire questi elementi nei bonifici elettronici invece il problema è diverso spesso sono limitati i campi per cui vi diciamo se non avete la possibilità di inserire tutti questi elementi almeno inserite sempre l'indicazione del CUP e l'ID del progetto è fondamentale che il CUP sia riportato non solo quindi nelle fatture ma anche nel pagamento nel insomma nei bonifici bancari da dove nasce l'obbligo del CUP essenzialmente per la tracciabilità di queste operazioni e da un altro lato il CUP sulle fatture elettroniche assolve un adempimento che era nostro come liquidatore in passato che era quello dell'annullamento delle fatture una indicazione del MEF dell'anno scorso precisa che l'indicazione del CUP nelle fatture nel campo note con anche l'indicazione del progetto come ho evidenziato prima consente l'annullo di quelle fatture che non potrà essere utilizzata ad altro scopo se non il progetto PNRR di cui siete beneficiari ecco il duplice scopo del CUP da un lato serve a tracciare tutto il procedimento tutti i pagamenti e dall'altro serve all'annullo delle fatture per quanto riguarda la fattura stessa se non ci sono ecco l'altro passaggio delle fatture dove non avevamo ancora il CUP perché è richiesta una dichiarazione integrativa per tutti i progetti avviati dal 1 febbraio 2020 fino alla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo dove abbiamo avuto la prima generazione del CUP di riferimento del progetto per queste fatture non si può tornare indietro e modificare fatture magari di quell'epoca ma a questo punto si è stabilito uno specifico allegato che è l'allegato 12 che è una DISAN in cui voi inserirete in maniera dettagliata gli estremi di tutte le fatture prive di CUP vi abbiamo chiesto ad alcuni in alcune istruttorie di fare la stessa cosa anche per i bonifici per cui vi abbiamo detto se avete già trasmesso con la richiesta di liquidazione del contributo del SAL l'allegato 12 e avete una serie di bonifici che sono stati fatti sempre nello stesso periodo privi di CUP allora dovete trasmetterci adattandolo l'allegato 12 anche per i bonifici di pagamento effettuati questa è un po' la novità nel momento in cui abbiamo preso in mano l'istruttore di liquidazioni perché ovviamente ripeto il processo deve battere pari sia nella fase di emissione della fattura che nella fase di pagamento per cui tutte le operazioni antecedenti non si poteva fare questo ma almeno facciamo due dichiarazioni che consentono di ricondurre le operazioni che avete fatto nel periodo antecedente al CUP che è stato emesso con l'atto d'obblighi ecco abbiamo una domanda sempre su questo su questo ambito sempre per Riccardo buongiorno avendo iniziato i progetti un anno fa sono già state effettuate diverse fatture abbiamo sempre messo un'indicazione del CUP nelle descrizioni così come nei relativi bonifici bisogna annullare le fatture e rifarle sono già state pagate soprattutto alcune sono dello scorso anno non credo si possano annullare no 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 ma se l'indicazione del CUP c'è noi siamo a posto io vi ho detto campo note perché è l'indicazione del MEF però è ovvio che se andate a inserirla anche in un campo di descrizione generale va benissimo io vi ho dato la specifica della circolare ma importante che sia esposto e noi lo possiamo leggere nel momento in cui si vede ed è completo problemi non ce ne sono assolutamente perfetto ce n'è un'altra sempre sul CUP che riscote tanto interesse di Valentina Sirola quindi se il CUP non è stato indicato nella struttura della fattura elettronica ma solo nella descrizione questo è da annullare e rifare direi che è la stessa risposta sempre la stessa risposta va benissimo aver utilizzato anche il campo descrizione ripeto non è oggetto eventualmente di una contestazione da parte nostra la circolare del MEF precisa il campo note che è un campo specifico con alcune caratteristiche però assolutamente è già annullata la fattura anche così cioè non è un'eccezione che vi posso porre per il futuro date questa indicazione appunto perché nasce da un chiarimento dato dal MEF con una specifica circolare ma di per sé non è quello il problema il problema è se non c'è il CUP bene direi che si può andare avanti perché sul CUP almeno in questa fase abbiamo abbastanza esaurito le domande ecco un altro elemento che vi vogliamo mettere in evidenza che è nato dalle vostre domande e dai primi controlli per tutti i beni soggetti a vincolo compreso gli OPEJegis in fase di renda in contazione è necessario acquisire copia dell'approvazione del progetto da parte della soprintendenza territoriale quindi non dimenticatevi nel sal nel saldo o in altri o comunque con una nota specifica dovete inviare questo documento che noi dobbiamo acquisire ecco sempre per rimanere su questo tema ma spostandoci appunto sul discorso della riconoscibilità SOA dice il SOA è obbligatorio per qualsiasi importo lavori non c'è il nome di chi fa questa domanda ma mi sembra interessante come domanda non so se Giulio o Riccardo vogliono parlare a questo proposito per qualsiasi importo di lavori ma direi che non ci sono nell'ambito degli importi cioè è l'importo dei lavori che sono preventivati ma che sono legati ai restauri perché ricordiamoci sempre che non abbiamo un tetto il tetto la certificazione richiesta per la tipologia dell'intervento poi negli appalti pubblici in realtà la SOA nasce obbligatoria per determinati livelli di lavoro ma qua siamo in un ambito privato credo che la prescrizione diciamo che viene data dalla soprintendenza preveda che comunque quando io vado a fare un restauro devo avere una ditta che è in grado di svolgere quei lavori con determinate caratteristiche che solo la SOA mi garantisce oppure l'altra eccezione che vi ho fatto vedere adesso torno un attimo indietro che è rappresentata dal possedere questi tre elementi escludiamo il terzo che è banale l'iscrizione in camera di commercio ma come vedete la certificazione SOA con determinate caratteristiche può essere superata qualora non sia posseduta l'impresa che ha operato sì scusa Riccardo confermo quanto tu stai ribadendo anche perché se parliamo di interventi su beni tutelati chiaramente ci dobbiamo rifare sempre alla necessaria ineludibile approvazione del progetto essensi dell'articolo 21 del codice dei beni culturali del paesaggio che quindi prevede anche la verifica sul fatto che la ditta esecutrice sia una ditta abilitata specializzata essensi di quanto dicevi prima quindi per importi lavori importo di lavori sotto una certa soglia non è obbligatoria la SOA ma ci vuole tutta quella certificazione è probabile è anzi molto vero il fatto che interventi inerenti questo investimento siano sotto soglia perché il nostro contributo è di 150 mila massimo quindi possono ricadere in quelle casistiche che hai già fatto vedere hai già commentato bene direi che possiamo andare avanti l'ultima fattispecie in esame rappresentato da un caso recente allora innanzitutto sul dns h soprattutto quando saremo in fase di saldo vi invitiamo sempre a scaricare le checklist aggiornate quando voi riceverete poi copia delle nostre slide qui vi abbiamo messo il collegamento a italiadomani gov.it dove potete vedere le checklist anche perché come sapete spesso escono degli aggiornamenti sia per quanto riguarda dns h sia per quanto riguarda le linee guida di rendicontazione quindi guardate sempre che la modulistica si è aggiornata noi aggiorniamo il sito aggiorniamo le notizie in merito voi prima di rendicontare verificate o chiedetecelo eventualmente che le checklist non siano state aggiornate nell'ambito del pnr sul tema delle caldaie a gas invece abbiamo un'altra evidenza allora su questo è uscito un chiarimento l'anno scorso il 25 luglio 2023 che evidenzia come le caldaie a gas in linea di principio non sono ammissibili a finanziamento in quanto costituiscono uso a valle di fonti fossili tuttavia ci sono delle eccezioni quindi diventa una spesa non ammissibile ma se rispetto le condizioni che adesso vi vado a illustrare comunque potrebbe rientrare invece tra le spese ammissibili la sostituzione di caldaie a gas se questa sostituzione rientra in un ampio programma di ristrutturazione ed efficientemente energetico questa è la prima condizione per esempio un programma di ristrutturazione ed efficientemente energetico che punta ad almeno il 30% del risparmio di energia primaria questa è la prima condizione le caldaie stesse portano una significativa riduzione delle emissioni di gas serra ecco questo è una caratteristica relativa al tipo di caldaia che si va ad installare in relazione alla ristrutturazione ed è la seconda condizione che permette di superare diciamo la non ammissibilità la terza condizione è che i costi legati alla sostituzione della caldaia a gas non devono costituire una parte significativa del programma di ristrutturazione e quindi al massimo il 20% dello stesso e la quarta e ultima condizione è che l'installazione del caldaia a gas deve far parte di una serie più ampia di ambiziose misure di transizione energetica compresi gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili quindi non deve essere di certo il fulcro dell'intervento di efficientamento se vengono rispettate queste condizioni allora non abbiamo il problema della non ammissibilità se ci sono delle domande ora io ho tenuto come ultima domanda la domanda di Antonio Gottarelli rispetto al preziario quindi torniamo a una questione affrontata anche dal dottor Dall'Orso e il dottor Gottarelli dice rispetto al preziario dell'Emilia Romagna del 2022 abbiamo avuto un raddoppio del costo di materie prime lo stabilizzato per le strade dopo gli eventi delle frane che hanno colpito Monterenzio se ne terrà conto Giulio Sì ho attivato il microfono non è possibile in pubblica amministrazione tenere conto dei casi particolari ma adottare delle procedure congruenti la scelta del preziario regionale 2023 come ultimo limite di prendere il confronto è il termine oltre il quale non possiamo andare sappiamo bene che molte volte i costi reali sia delle imprese sia le forniture hanno subito degli aumenti significativi a volte a livello locale ma anche più in generale per il noto effetto del super bonus quindi ci sono degli aumenti oggettivi ma abbiamo un vincolo che è quello dato dal bando stesso cioè che il contributo non può essere in alcun modo aumentato quindi i maggiori costi rimangono a carico del beneficiario l'utilizzo del preziario 2023 può in qualche modo compensare l'aumento di costi che c'è stato tra la progettazione originaria in fase di progetto preliminare e l'effettiva progettazione definitiva affidamento dei lavori tutto quello che è aumento dei costi anche oggettivo rimane purtroppo a carico del beneficiario molti beneficiari hanno adottato messo in campo delle varianti in corso d'opera chiedendoci autorizzazioni proprio per riuscire a compensare i maggiori costi con minori lavorazioni fermo restando che la congruità delle spese rendicontate sarà sempre da porsi in ferimento al preziario 2023 come limite massimo colgo l'occasione per rispondere anche a un'altra domanda che ho visto in passato che è l'occasione per togliere un'ambiguità o un misintending che può esserci sulla congruità invece delle spese dei professionisti mentre i lavori le opere possono essere confrontate semplicemente col preziario regionale e solo qualora una voce di spesa non sia presente in preziario occorre ricorrere a determinazione di un nuovo prezzo mediante confronto con tre offerte economiche comparabili comparative ma le offerte comparative servono solo a determinare il prezzo di quel tipo di lavorazione per quanto riguarda invece gli incarichi professionali il preziario il vademecum prevede che vengano poste a confronto il nostro bando prevede che vengano poste a confronto tre offerte per determinare la congruità del costo dell'intervento del professionista determinata la congruità del costo eventuali successivi affidamenti seguono la regola delle soglie di affidamento per cui se sono sotto soglia l'affidamento può essere un affidamento diretto il caso che veniva presentato in questo quesito è successivo affidamento a un nuovo tecnico con affidamento diretto è possibile bisogna chiedere nuovamente tre preventivi tre preventivi sono già stati chiesti sulla base di quei tre preventivi si è determinato un valore congruo della prestazione successivamente può essere cambiato il professionista e affidato un nuovo incaico senza dover necessariamente chiedere preventivi di concorrenza ecco ma aggiungo un'altra domanda sempre del dottor Gottarelli in merito a un tema che è quello delle checklist del dnsh una volta inviate per la richiesta del sal al 50% valgono anche per la documentazione di saldo finale risponde Giulio che sta trattando questo tema poi ho una domanda invece per Riccardo il dnsh come avete visto è una logica che va seguita le schede da applicare vengono anche aggiornate dal ministero quindi non è pensabile chiedere una modifica di una sede ex ante perché se la valutazione è stata fatta ex ante è già stata fatta ma in corso d'opera va continuamente adattata a questa verifica e in fase di rendicontazione finale vanno utilizzate le schede di verifica vigenti al momento della rendicontazione cioè si dovrà dimostrare che si è tenuto conto degli aggiornamenti che ci sono stati nel frattempo ecco invece per il discorso dell'allegato 16 bis per Riccardo tornando all'allegato 16 bis chiedo conferma che al momento del sal si dichiari come sono state sostenute le spese già effettuate in quanto l'importo complessivo scusate che non leggo tutto del progetto sarà definito solo alla fine lavori no nell'allegato 16 bis vengono indicati i riferimenti del progetto quindi dell'atto d'obbligo o eventualmente delle varianti che sono state presentate ed approvate questo è quello che compare il dato che voi invece volete esprimere che non è corretto è quello dello stato di avanzamento dei lavori ma quello non ci interessa nel 16 bis nel 16 bis la fotografia è il progetto come previsto nell'atto d'obbligo o successivamente modificato mentre in questa domanda la giro a Giulio scusate sui preziari si sono rendi contatti i prezzi con il preziario dell'Emilia Romagna 2022 in quanto è indicato nel bando ora si può usare il preziario 2023 in tal caso va aggiornato il contratto d'appalto con l'impresa Giulio penso che possa rispondere in merito a questo avendo trattato il tema il preziario da utilizzare è quello utilizzato al momento del contratto al momento dell'affidamento dei lavori non è una revisione prezzi che si consente di fare in questo caso utilizzando il 20 perché non è prevista la revisione dei prezzi in corso di realizzazione dell'intervento quello che noi abbiamo cercato di prendere in considerazione è che tra la progettazione preliminare fatta nel 22 e la progettazione definitiva con l'affidamento dei lavori per molti casi fatta nel 2023 i prezzi nel frattempo erano lievitati quindi ci facciamo riferimento al preziario 23 al momento dell'affidamento dei lavori se poi quindi quando c'è stato siglato un contratto un importo di contratto quello dopo deve rimanere allora altra domanda sempre legata ai computi metrici che vedo abbia una grande il computo metrico consultivo per la congruità dei lavori è necessario solo alla fine per il saldo oppure anche per il sal intermedio è Valentina Sirola e quindi Riccardo se vuoi rispondere tu in sede di saldo si presenta il computo metrico consultivo per cui in fase di saldo non ci si pone il problema ma lo andremo a affrontare in un'analisi più attenta e dettagliata in sede di saldo ecco c'è una domanda di Emanuele Mazzardi ma posso rispondere anch'io dice il termine ultimo di conclusione dei lavori è considerarsi il 31 marzo 2025 e il 31 dicembre 2025 sappiamo di questo problema in atto d'obblighi c'è ho visto riportate entrambe le date per noi è il 31 dicembre 2025 perché l'atto d'obblighi era ancora più restrittivo noi abbiamo cercato di venire incontro anche alle esigenze dei nostri beneficiari cercando di portare la chiusura degli interventi al 31 dicembre 2025 ho un'altra domanda e vediamo ecco il dottor Gottarelli dice in merito al discorso delle voci non intendeva aumento del contributo ma di rapporto tra le voci del computo metrico penso che comunque Giulio abbia già risposto abbondantemente a questa cosa sempre sul DNS in relazione al DNS la modulistica come il piano di gestione dei rifiuti vi va inoltrata a voi o va tenuti in cantiere la stessa all'interno del PSC credo che Giulio possa rispondere a questo riguardo la premessa è che va inviato tutto a noi ma comunque credo che Giulio Giulio sei senza microfono attiva il microfono non ti si sente no non ha attivato il microfono Giulio io vi posso già dire in anticipazione di quello che poi dottor Dallorso vi specificherà ulteriormente che va mandata tutta a noi anche la certificazione del materiale sì anche secondo me aspetta vengo a vedere se hai bisogno ecco allora la domanda è questa relativa al DNS H sì la modulistica in relazione al DNS H la modulistica come il piano di gestione dei rifiuti un punto importante vi va inoltrata a voi o va tenuti in cantiere allora nella rendicontazione del DNS H nella scheda di checklist si dice che nella fase ex post vanno inviati le documentazioni cioè la documentazione probante deve essere inviata in allegato alla scheda alla checklist questo vale anche per la documentazione ex ante quindi quando si presenta la prima domanda di SAL occorre presentare la checklist ex ante e allegare alla checklist ex ante i documenti che nella checklist sono stati indicati come eseguiti e realizzati quindi la pianificazione la valutazione il censimento dell'amianto se necessario cioè tutta quella documentazione che la checklist prevede dice sì bisogna allegare la documentazione probatoria quando si andrà alla checklist ex post analogamente si dovrà allegare la documentazione probatoria quindi anche il piano di gestione dei rifiuti è una mole di documenti enorme che sommergerà i nostri uffici ne siamo drammaticamente consapevoli ma questa è stata l'indicazione che ci è arrivata dal NIC grazie Giulio c'è un altro tema che è quello appunto del portare i lavori a conclusione il 31-12-20-25 cioè non è che siete obbligati a portare i vostri lavori il 31-12 Chiara Preti chiede ma se i lavori possono essere conclusi entro il 31-12-25 con il cronoprogramma dei lavori cosa bisogna fare rappresentare una variante allora se avete variato il vostro progetto nei tempi rispetto a quelli preventivati dalla domanda sì ovviamente avete gli strumenti sia dell'allegato 17 che costituisce l'allegato per le varianti al crono e anche per il QTE e quindi ce lo comunicate semplicemente ma se non avete bisogno di traslare questa data di chiusura lavori al 31-12-20-25 potete tranquillamente procedere con il timing che vi siete dati sì le slide sono scaricabili rispondo anche a Luca Giacobazzi l'avevo anche già scritto sarà tutto messo sul nostro sito del settore patrimonio culturale poi se vorrà anche la dottoressa Gagliotto su quello dell'area liquidazione vediamo se ci sono delle nuove domande allora qui è un anonimo adesso io la faccio generalmente poi vediamo se Riccardo o Giulio vogliono rispondere la comunicazione la comunicazione di variante diventa richiesta di autorizzazione di variante solo nel caso di variazione di macrovoce Giulio penso che sia c'è la variante della macrovoce del 10% e questa è il classico articolo 6 dell'atto d'obblighi e poi può essere richiesta anche per le variazioni per esempio del cronoprogramma come avevi detto poco anzi anche per la variazione di lavorazioni specifiche alcuni ci hanno chiesto se è necessario presentare comunicazione o autorizzazione quando c'è variazione di determinate lavorazioni ma non c'è né modifica di cronoprogramma né modifica di quadro economico le indicazioni che ci sono arrivate le ritengo anche abbastanza coerenti è opportuno che ci sia la comunicazione non è necessaria la se non ci sono variazioni di macrovoci non è necessaria una specifica autorizzazione però è bene che il beneficiario comunichi le lavorazioni specifiche che vengono variate perché se ci fosse una qualche lavorazione che viene ritenuta non ammissibile almeno è stata comunicata e i nostri uffici possono esaminarla chiedere integrazioni modifiche o chiedere eventuali chiarimenti senza dover aspettare il verdetto al momento della valutazione finale della congruità della spesa quindi tutte le variazioni significative che non siano variazioni di dettaglio che si fanno durante l'esecuzione dei lavori è bene che vengano comunicate ne daremo riscontro di queste variazioni abbiamo sempre dato riscontro a tutti gli allegati 17 che sono arrivati sia che si trattasse di vere e proprie autorizzazioni sia di presa d'atto di una comunicazione avvenuta efficacemente ecco un'altra domanda interessante dalla signora Volinia quando sarà erogato il secondo contributo per chi ha chiesto l'anticipazione qui parliamo di fidei usioni quindi bisogna attendere il saldo il 50% perché è stato notificato che ci sono tre step di erogazione nel 23 nel 24 e nel 25 direi che può rispondere Riccardo andiamo a saldo con lei se ha già fatto l'anticipazione sì volevo comunque specificare anche da parte nostra che le erogazioni 23 24 25 sono quelle legate all'anticipazione l'anticipazione ha un suo iter che è legato anche al nostro bilancio se non sbaglio proprio questa annualità che abbiamo definito di anticipazione e lei se è nelle condizioni di presentare appunto il sal non ci sono problemi possiamo procedere anche col sal ricordo a tutti che i tempi scusate di elaborazione anche di un sal sono quelli che vi hanno già ricordato i dirigenti vediamo se ci sono delle altre domande allora le varianti possono essere anche più di una sia per il cronoprogramma che per la variazione delle macro voci direi Giulio sì le variazioni possono essere più di una non è sano reiterare numerose variazioni però è bene che se c'è un'ulteriore variazione in corso d'opera questa venga comunicato con l'allegato 17 fino ad oggi abbiamo approvato anche due varianti in un caso anche tre variazioni su un singolo progetto ritorno sulla domanda precedente per vedere se posso essere stato distratto io ma potrebbe esserci ancora un qualche dubbio chi ha ottenuto l'anticipazione grazie alla fideiussione non occorre che presenti il sal perché non potrà ricevere un'anticipazione l'ha già avuta dovrà andare a saldo finale esattamente viceversa chi ha realizzato interventi in maniera congrua rispetto al 50% del contributo può chiedere il sal quando è in condizione di poterlo fare cioè quindi quando è raggiunto il tetto di spesa corrispondente indipendentemente dall'impegno di spesa che è stato distribuito su tre anni quindi nella vostra concessione nella delibera di concessione di contributo gli impegni di spesa sono stati distribuiti su tre annualità quindi i nostri uffici fanno poi una rideterminazione dell'impegno sulla base delle effettive domande di pagamento grazie Giulio della specifica perché è il saldo che si può avere dopo l'anticipazione altre domande sempre legate al discorso delle varianti delle macrovoci Lisa Roveri chiede senza modificare l'importo della macrovoce di posso variare le di 1 e di 2 credo che Giulio abbia già in parte risposto e direi che non ci sono problemi sì per chi ha avuto l'anticipazione del 50% mediante polizia fidei usori si utilizza la modulistica di rendicontazione finale se va a saldo sì se va a saldo sì altre domande vediamo se ci sono ecco la tempistica di erogazione dei sal Valentina Sirolla l'abbiamo già ricordata all'inizio è legata a una serie di procedure che anche il MIC ha relativamente a tempo recente aggiornato e pertanto i tempi non sono soltanto i nostri sono anche quelli che il MIC ci ha posto con degli aggiornamenti di documentazione ecco vediamo se ce n'è un altro il report di Stefano Campetti che è una nuova domanda report redatto secondo quanto previsto dalle linee guida tassonomiche riportate come nell'appendice della guida operativa del DnsH a pagina potete fornire chiarimenti sul DnsH le guide tassonomiche in relazione a cosa dottor Campetti perché è poco chiara la domanda se riesce ad essere più specifico noi proviamo a risponderle tenente conto che noi ci stiamo avvalendo di esperti relativi al DnsH che dovranno valutare tutta la documentazione sia ex post sia ex ante che ex post dei vostri progetti vediamo se ci sono ancora delle domande a cui non abbiamo risposto sul DnsH approfitterei Lorenza se mi consegni uno se i quesiti sono molto puntuali e specifici come quello che ci è stato posto prima richiedono una valutazione attenta e puntuale non è che abbiamo così a memoria tutta la normativa DnsH da poter rispondere così all'impronta per cui sono domande molto specifiche molto puntuali ci serviamo di farlo a seguito di un'email di una comunicazione più specifica vorrei però ne approfitto del DnsH per toccare un tema abbastanza ricorrente molti hanno mandato unitamente alla domanda di pagamento di SALL le checklist compilate senza allegare alcuna altra documentazione in fase di rendicontazione cioè di valutazione della rendicontazione i miei colleghi stanno facendo richieste di integrazione quindi chi si accinge a predisporre la domanda di pagamento non basta allegare il checklist bisogna allegare la documentazione che dimostri che quella checklist exante è stata regolarmente si è dato corso alle valutazioni necessarie su tutti i sei item del DnsH quali checklist vanno compilate le indicazioni del ministero che vanno compilate almeno tutte quelle indicate inizialmente le sei checklist indicate dal ministero anche se non applicabili il che vuol dire che in molti casi bisogna semplicemente dire non applicabile ripetere tale indicazione su tutte le checklist è una compilazione abbastanza pedissequa con un'interpretazione pedissequa della norma che potrebbe essere superata se si compila propriamente la checklist o le due checklist pertinenti ma si accompagna con una relazione tecnica che dichiari e dimostri specifici perché le altre checklist non sono state compilate in quanto ritenute non applicabili spiegando le motivazioni cioè anziché ripete la motivazione di non applicabilità per 18 righe di una checklist lo si specifica nella relazione ma deve essere comunque specificato da un professionista perché non applicabile semplicemente non si può non farla e dire me la sono dimenticata ecco sostanzialmente qualche cosa dovrà essere scritto è detto ecco sempre in tema di SAL la signora Sirola chiede mi è sfuggita la tempistica di errore e canzone dei SAL se Riccardo vuol fare vuol tornare sul discorso la tempistica lo chiariamo una volta per tutte per la per la ripeto per quanto riguarda i SAL le istruttorie sono tutte in corso per coloro che hanno presentato in stanza abbiamo avuto alcune specifiche che ci hanno consentito di riuscire cioè ci hanno dato gli strumenti per poter chiudere le istruttorie solo nel mese di maggio quindi con ogni probabilità nei prossimi mesi durante l'estate riusciremo a liquidarvi tutti i SAL che sono stati presentati questo è un termine di massima che vi posso dare ovviamente per ogni istruttoria saranno richieste o sono state richieste delle integrazioni o dei chiarimenti una volta che avremo chiarito tutto in relazione a quelli che sono gli strumenti che ci ha dato il Ministero della Cultura e il MEF per poter a nostra volta rendicontare i vostri progetti sul sistema Regis saremo in grado di liquidarvi il contributo per quanto riguarda invece l'altra domanda di Alessandro Bertani una volta ricevuta l'anticipazione e presentata la documentazione per il saldo questo si riceve in un'unica soluzione sì in fase di saldo si riceve ovviamente la quota restante del contributo che è stato concesso nella fase iniziale di valutazione quindi se è stata data l'anticipazione si decurterà l'anticipazione e si liquiderà la somma rimanente bene c'è la domanda di Maria Giovanna Serra che girerò a Giulio scusate mi domandavo se al momento della domanda di pagamento a saldo è sufficiente allegare la richiesta di agibilità presentata al comune o se è necessario essere in possesso dell'effettivo documento di agibilità che ha rilasciato qui entriamo nella normativa edilizia che non è esattamente mia competenza comunque per quanto necessaria ai fini del bando si deve dimostrare il completamento integrale del progetto quindi dovrà essere presentata la documentazione che comprovi la conclusione dei lavori in primo luogo con una severazione del direttore lavori secondo luogo con la presentazione di tutti i documenti necessari all'amministrazione comunale l'agibilità non è non viene a rilasciarsi sappiamo in base alla legge edilizia regionale non è che venga rilasciata per ogni intervento ma semplicemente con controlli a campione quindi è sufficiente che sia presentata la conclusione del procedimento e la dichiarazione del professionista del direttore lavori che sono stati tutti regolarmente realizzati e si sono acquisite tutte le documentazioni questo penso sia quello che anche perché noi non siamo l'ufficio tecnico comunale tutte le diciamo così le asseverazioni le conformità edilizie sono in capo ai comuni in cui questi interventi si stanno attuando quindi è il riferimento prima di tutto è il comune di appartenenza che deve avvallare e certificare tutte le vostre richieste e dare sostanzialmente la conformità a tutti gli interventi che voi fate da un punto di vista edilizio strutturale e quant'altro volevo tornare su una domanda che la signora Volinia aveva riproposto sul tema delle anticipazioni i tre step di pagamento previsti dalla determina 1148 sono i tre step con cui verranno erogati le anticipazioni che avete chiesto per cui avete ricevuto la determina correttamente che vi da diciamo così lo spacchettamento non è un termine molto elegante ma funziona in questo caso della erogazione che voi avete richiesto sui vari capitoli di pagamento è semplicemente una questione di tipo amministrativo che la regione ha altre domande vediamo c'è vediamo se le spese tecniche B suppongo che sia la voce B hanno superato quanto previsto nel QE ma rientrano comunque nel 10% del costo totale di progetto bisogna inoltrare a legato 17 per chiedere variazione del QE se invece superano il 10% del costo totale devono essere inserite nel totale spese non ammissibili le spese non ammissibili fatture e bonifici sono comunque da legare al SAL prendi conto intermedio Giulio ti senti di rispondere sì direi di sì è abbastanza semplice le spese tecniche possono essere aumentate in molti casi aumentano perché aumenta anche l'importo di progetto e quindi costituiscono una variazione di spesa ed è opportuno inserirle in un quadro tecnico economico aggiornato e quindi si presenterà una variante a legato 17 dove vengono esplicitati i motivi c'è comunque un tetto fissato dal bando sul 10% dell'importo complessivo quindi le spese che cedono rimangono come spese non la quota eccedente rimane come spesa non ammissibile vanno comunque rendicontate perché se ci sono vanno rendicontate sì altro elemento che forse non è stato sottolineato è la rendicontazione di tutto il progetto questo è un punto importante l'abbiamo visto e l'abbiamo messo anche nelle facche che troverete sul nostro sito non deve essere rendicontata solo la parte che viene finanziata attraverso i fondi RRF ma tutto il progetto e c'è anche il discorso del CUP perché deve essere presente anche nelle altre parti del progetto non solo in quelle da rendicontare perché ci deve essere un allineamento di tutto il progetto e quindi identificabile con un CUP molto caratterizzato cioè è quello se qualcuno dei colleghi vuole affrontare il tema della rendicontazione generale ma credo che sia nelle cose è stata già messa come FAQ ed è stata già comunicata se volete procediamo con le altre domande che sono arrivate sempre l'ingegnere Cottarelli la comunicazione e il finanziamento sarebbe stato spalmato su tre anni parliamo evidentemente della fideiusione qui perché non è chiaro è stata data dopo il nostro inizio lavori abbiamo presentato il sal 50% no quindi in questo caso non si riferisce all'anticipazione una volta erogato questo il saldo finale verrà in forza del 2025 ingegnere per piacere se specifica a che cosa si riferisce perché così è abbastanza vaga la domanda no scusa Lorenza penso faccia riferimento al fatto che quando sono stati selezionati ammessi e comunicata la finanziabilità dei progetti nel cronoprogramma noi avevamo chiesto c'era la distribuzione della spesa nelle annualità chiaramente poi sul bilancio regionale si è tenuto conto della distribuzione nei capitoli per tutti i equilibri di bilancio quindi per questo intervento è stato presentato il sal al 50% 8 mesi fa adesso avranno il saldo compatibilmente con la capienza dei capitoli in cui sono inseriti a seconda che siano soggetti privati o soggetti pubblici compatibilmente a questo verranno saldati una volta passate tutte le fasi di rendicontazione e di verifica quindi se c'è capienza su questa annualità se verrà presentata la rendicontazione sarà tutto a posto per il 24 bene altrimenti potrà essere splittata anche in parte nel 25 dipende poi dai nostri capitoli considerate che stiamo parlando di allora siamo partiti con 213 212 interventi si è dovuto fare tutto un lavoro di ridistribuzione nei capitoli sulle annualità sulla base di informazioni previsionali dati dai soggetti proponenti diventati beneficiari quando è stato presentato il progetto all'avviso poi sono cambiate tante cose abbiamo avuto calamità naturali chi ci ha detto non sono ancora riuscito a partire perché ma noi abbiamo fatto perché non c'è la strada d'accesso sappiamo bene perché sono tutte informazioni che abbiamo ricevuto da voi da chi si è trovato in queste condizioni noi però all'epoca con i colleghi appunto regionali del bilancio abbiamo dovuto distribuire i fondi nelle annualità partendo 23 24 25 e in parte 26 in alcuni casi può essere che la capienza dei singoli capitoli non sia perfettamente corrispondente alle richieste per adesso questa cosa non è ancora avvenuta perché ci siamo e la regione cerca anche con fondi propri comunque di ottemperare ai saldi però potrebbe avvenire che il saldo finale venga splittato in due tranche e non tutte la stessa annualità bene grazie cristina sempre sul dnsh questa è una domanda già puntuale molto specifica in relazione al dnsh se non si ha mianto in cantiere serve comunque un'asseverazione del tecnico direttore di lavoro progettista o basta barrare no giulio se vuoi sì è una domanda interessante anche se molto specifica perché è l'occasione di precisare un elemento importante nella compilazione delle schede c'è un webinar del ministero sul dnsh ed è stato ribadito anche in circolari le domande sostanzialmente ammissibili nella compilazione delle schede sono sì e non applicabili quando si dice no è un'inadempienza quindi non è di fatto possibile dire no nella scheda quindi se c'è se è applicabile la verifica dell'amianto occorre dire sì e occorre che il professionista anche solo nella sua relazione se proprio non viene predisposto un piano di censimento dell'amianto nella relazione di accompagnamento al dnsh a severi che sono state fatte le verifiche sufficienti per accettare che l'amianto non è presente in cantiere comunque non può semplicemente dire no nella scheda questo vale anche per altri piani cioè la voce no è un elemento di alert nella verifica del dnsh quindi se nella checklist c'è compare qualche no è un elemento di alert che interrompe chiede un approfondimento specifico sia per l'amianto che per altre risposte tutto quello che appare come dire ridondante predisporre un piano ad hoc per rispondere a quella specifica adempimento può essere riassunto all'interno di una relazione complessiva dove si dimostrano gli adempimenti di nsh aspetta non ti si sente sempre sul dnsh camilla rossi ci chiede se si eseguono lavori extra budget pagati dal beneficiario è necessario compilarle schede dnsh se i lavori non sono compresi ufficialmente nel progetto ma propedeutici allora propedeutico cosa vuol dire in questo caso può essere un'ambiguità da risolvere in linea generale il dnsh va applicato su tutto il progetto comprese le spese non ammissibili non è possibile attraverso la dichiarazione di spese non ammissibili eludere il principio del dnsh che è un principio generale che informa l'intera progettazione e realizzazione dell'intervento non le singole acquisti lavorazioni o forniture ma il principio di dnsh è una logica di progettazione e di esecuzione non è un addempimento puntuale sul singolo intervento sul singolo pezzo dell'intervento grazie l'architetto zilocchi ci chiede confermate che la documentazione di fine lavori vada predisposta inviata entro non oltre 90 giorni dalla data a cui è avvenuto l'ultimo pagamento delle imprese esecutrici come da bando direi questo sì confermiamo leggiamo un attimo il post di Luca Giacobazzi che dice ma se in cantiere so di non avere amianto basta scrivere non applicabile o va fatta una relazione di merito sì direi che hai già risposto Giulio Camilla Rossi lavori necessari scusate che mi è comparsa lavori necessari non individuati prima ma solo successivamente comunque grazie quindi ha una risposta di ringraziamento più che altro direi che sul DNSH sì che è la vera novità di questo bando Giulio ha sviluppato ampiamente la questione non solo delle schede ex ante ma della relazione che deve essere portata con le schede ex ante e con le schede ex post quindi la relazione è anche quella che vi permette di ricucire tutte le risposte che date nelle checklist che voi pensate di utilizzare ed aiuta tantissimo noi nel capire che cosa poi voi avete sviluppato come prevenzione contro il danno ambientale in poche parole dunque per ora non ci sono delle altre domande in attesa se qualcuno di noi vuol fare qualche approfondimento rispetto Scusa Lorenza io credo che potrebbe essere utile intanto come avevi annunciato condividere il sito la pagina far vedere tutti i documenti dove si trovano così magari se intanto ci sono altre domande ecco quindi vedete la pagina patrimonioculturale.regione emilia Romagna.it perfetto allora questa è la nostra pagina dove potete arrivare facilmente in fondo vi trovate delle tile PNR patrimonio culturale la nostra è questa dedicata a restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggio rurale cerco di non andare troppo in fretta nella home page che si apre voi trovate sostanzialmente tutti gli atti che abbiamo pubblicato le graduatorie il bando che ormai sono cose che fanno parte della storia ma i due punti fondamentali su cui mi voglio fermare sono le FAQ quindi l'aggiornamento delle FAQ che trovate già qui linkabile nella prima pagina con anche l'aggiornamento delle checklist del DNSH l'introduzione della checklist numero 12 che forse non abbiamo affrontato qui che è quella legata all'inserimento dei pannelli fotovoltaici e la terza guida operativa per il rispetto del DNSH entrando poi nel sito Italia Domani Gov tutto quello che vi ha fatto vedere prima anche Riccardo è possibile scaricare tutte le checklist aggiornate perché il ministero il MEF in particolare ci ha aggiornato le checklist e in particolare la numero 2 come avete avuto modo di sentire qui un'altra cosa importante è la modulistica e gli adempimenti che trovate qui in basso a destra gli adempimenti e la modulistica vi riportano a tutti quei moduli modulistica per la rendicontazione come potete vedere qui che sono stati approntati per voi e che sono stati già caricati con i loghi necessari che così non vi facciamo più caricare a voi abbiamo cercato di aiutarvi e chi ancora deve utilizzare dei moduli li può scaricare e qui trova direttamente i moduli scaricabili direi che sostanzialmente le due parti più importanti che potete trovare come aggiornamento sono sicuramente la lista della documentazione della modulistica e la lista del dnsh che è praticamente stata aggiornata e dalla prima home page che vi compare la trovate subito poi ci sono tutti tutte le informazioni che in tutti questi due anni abbiamo dato le soprintendenze come rimandare alle soprintendenze i progetti ricordatevi sempre che per ora sono le soprintendenze territoriali che poi girano alla soprintendenza dedicata speciale a Roma le vostre richieste relative agli articoli 21 ai beni vincolati quindi direi che se non ci sono mi sembra che è inutile la navigazione ma i temi sono quelli fac e adempimenti modulistica poi trovate il webinar fatto il 23 novembre e in questa pagina verrà caricato anche il webinar che facciamo oggi con le relative slide non so se ci sono delle altre domande ecco ci sono dei nuovi post vediamo allora mi chiede chiede anzi a noi Pierluigi Costa buongiorno avevo capito diversamente sull'erogazione quindi qua parla dell'erogazione chi aveva avuto l'anticipazione del 50 avrebbe potuto beneficiare lo stesso dell'erogazione del 50 al primo sal no dall'articolo 13 del bando si ha o anticipazione saldo o sal e saldo ve lo posso già confermare il buon fine di intervento nella circostanza concreta di aver di fatto ottenuto già tutto il finanziamento assegnato veniva garantito dalla finuzione se non è così per il nostro caso si apre un bel problema di prefinanziamento con i lavori in corso ribadiamo chi chiede la fideiusione praticamente sostituisce la richiesta del sal si attua fideiusione e saldo oppure sal e saldo quindi sono le due e l'articolo 13 dell'avviso pubblico lo chiarisce perfettamente quindi ci dispiace che qualcuno abbia avuto nella lettura del bando qualche perplessità al riguardo nel bonifico della fideiusione non è stato inserito il cup come posso rimediare vediamo Riccardo si trova con una bacchetta magica una risposta perché ecco queste sono domande specifiche casi particolari che magari dobbiamo affrontare caso per caso non possiamo dare una regola se c'è stato un errore per esempio da parte della banca nel compilarlo bisogna andare a vedere nello specifico quel caso se vi lo siete dimenticati è un problema così come abbiamo già specificato nella domanda successiva che l'anticipo non può essere la richiesta di sal quindi vado avanti con i quesiti perché anche su anonimo abbiamo già abbiamo già risposto Angela a giancola ci chiede eventuali corpi aggiunti ante 1942 non coevi con l'impianto originario da recuperare possono essere mantenuti in opera se gli enti predisposti hanno rilasciato parere favorevole direi che abbiamo messo anche nel bando questi caratteri le tipologie originarie devono essere salvaguardate anche quando non sono ben vincolati se sono corpi aggiunti prima del 1942 costituiscono già un edificio che ha più di 70 anni nella sua integrità quindi possono essere mantenuti recuperati se fanno parte comunque della struttura ormai storicizzata dell'elemento architettonico direi di sì se non ci sono delle particolari incongruità col progetto ma è ante 1942 quindi parliamo già di un bene che anche a sua volta è stato storicizzato anonimo sempre anonimo ecco l'ingegner Bocchi quindi qua abbiamo un referente abbiamo predisposto le schede del DNS H ex ante prima di tutte le modifiche e informative successive vanno rinviate corrette in linea con le ultime direttive beh direi di sì i documenti predisposti li abbiamo in cantiere con data precedente all'avvio dei lavori a servizio dell'Ausl piano gestione di rifiuti censimento amianto le inoltriamo Giulio vuoi essere più preciso? no no tutta la documentazione ex ante la documentazione ex ante è la presa di disposizione dei piani riguardo del piano di progetti preliminari alla realizzazione dell'intervento poi tutta la documentazione servirà in fase di rendicontazione finale quindi in questa fase qui intanto non occorre andare a rifare cose fatte ex ante perché se sono ex ante sono state fatte con la normativa vigente allora quello che dovrà essere fatto è la documentazione ex post che andrà aggiornata integrata sono ingegneri sono stato esoriente soprattutto ad esempio nella checklist 2 per fare un esempio chi ha già mandato ex ante la checklist 2 non aggiornata è chiaro che ci aspettiamo che l'aggiornerà nella fase ex post perché è chiaro che molte persone hanno mandato già delle documentazioni senza diciamo aggiornare e non per colpa loro devo dire perché queste comunicazioni sono fatte dai ministeri e purtroppo anche per noi arrivano sempre in corsa quindi con persone che ci hanno già presentato la documentazione ex ante quindi diciamo che c'è il modo nella fase di saldo di arrivare a fare gli aggiornamenti opportuni non so ecco ci sono dei nuovi post vediamo se si decide di non implementare il fotovoltaico per un incremento dei costi di lavori e di esecuzione delle opere e si è compensato con un cappotto di isolamento particolarmente performante questo è possibile bisogna comunicarlo con un allegato 17 giulio sì è una variazione una variazione anche significativa di lavorazioni specifiche quindi va comunicato e nella fase di valutazione dell'accettazione o meno della variante si valuterà se è equivalente e quanto questa variazione incide rispetto alla valutazione originaria del progetto perché se il progetto ha ottenuto determinati punteggi per le tipologie degli interventi fatti questo potrebbe andare a incidere sulla valutazione complessiva ora per un progetto che ha avuto un buon risultato come dire non ci sono non ci sono problemi perché è arrivato al traguardo alla soglia bisogna stare attenti a introdurre variazioni che non siano peggiorative dal punto di vista ambientale se questi erano elementi significativi di valutazione sì diciamo che questo vale per il fotovoltaico vale per altri tipi di intervento in alcuni casi ci è stato comunicato che la raccolta delle acque di pioggia ha avuto delle variazioni che sono state affrontate in maniera equivalente in alcuni casi si è ragionato sul fotovoltaico in alcuni casi si sono cambiate le tipologie di riscaldamento sostituendo geotermia particolarmente onerosa con altre soluzioni cioè quello che è variazione significativa va sicuramente comunicato tenendo presente quello che è stato dichiarato in fase di progettazione iniziale sì ho un nuovo post sempre l'ingegnere Gottarelli che ci dice che c'è una disparità evidente fra chi ha anticipato le spese e chi ha avuto l'anticipo previa fideillusione noi non abbiamo accettato le clausole di diverse società per la fideillusione perché praticamente tutte non erano certificate ci chiedevano ecco questo è un caso molto particolare ingegnere io dico subito ci chiedevano dei 5.000 7.000 euro per il pezzo di carta chiedendo poi le garanzie personali in sostanza sono fideillusioni che in caso di contenzioso non garantiscono nulla sono già scoppiati numerosi casi a livello nazionale ecco noi però in questo ambito mi permetto adesso se la nostra dirigente vuole intervenire ma non entriamo in questo ambito non possiamo entrare allora mi faccio mi accodo nel senso che siccome il bando prevedeva come beneficiare i soggetti privati allora per venire incontro e alla possibilità appunto di sostenere la progettazione e l'attuazione degli interventi i soggetti attuatori quindi le singole regioni potevano scegliere varie modalità le sarà noto consultando e navigando sui siti anche Italia Domani dove sono riportati tutti i bandi di tutte le misure che alcune regioni faccio un caso la Liguria ha fatto un'altra scelta ha detto noi saldiamo in un'unica tranche finale non accettiamo non consideriamo la possibilità di dare delle anticipazioni e quindi non stimoliamo appunto i singoli i privati ad attrezzarsi per delle polizie fideusorie altri hanno scelto di fare sal al 50% e saldo finale noi dopo attenta riflessione abbiamo ritenuto di essere il più possibile aperti a varie soluzioni e inclusivi nei termini di poter dare un aiuto all'avvio e quindi abbiamo inserito anche le anticipazioni però con queste regole perché diversamente non sarebbe stato possibile poi la scelta del singolo beneficiario valutando la propria condizione e la previsione e la simulazione degli sviluppi andare autonomamente con le proprie scelte mi spiace ma ci sono altre domande scusate sto leggendo l'altra domanda ma avevo disattivato il microfono sì c'è una domanda che fa riferimento alla pagina 6 del vademecom suppongo la nota la nota 1 che è stata messa in coda alla pagina dice secondo la nota della pagina 6 del vademecom non è necessario inviare una relazione comparativa dei tecnici servizi di ingegneria ed architettura per il decreto semplificazione se l'importo dei lavori è inferiore a 150 mila euro ecco l'importo inferiore a 150 mila euro la nota richiama essenzialmente quella che è una procedura pubblica che è l'affidamento diretto essenzialmente in quel caso io posso procedere senza la comparazione infatti dice affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro e per servizi e fornituri vi comprese i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 139 mila in tali casi la stazione appaltante procede dall'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici se si riferisce a questo essenzialmente un richiamo al codice al 76 2020 che in realtà è una modifica al codice dei contratti 50 2016 che consente per lavori sotto i 150 mila euro e per attività dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 139 mila euro a muovermi senza dover fare comparazioni sì ribadisco anche che le mani alzate non possono avere i quesiti li dovete mettere nelle domande risposte perché non è un webinar diretto quindi non possiamo passare la parola non è predisposto per passare la parola volevo leggerla la questione legata sempre al dns che ci sottopone Gian Pietro Vai allora l'allegato a consegnato a giugno 2023 si chiedeva di individuare le schede attinenti al progetto a giugno 2023 abbiamo consegnato anche tutta la relazione di nsh dobbiamo integrarla con le tre schede non considerate attinenti delle sei che sono state citate come necessarie e secondo le nuove checklist Giulio vuoi provare a rispondere tu? se la documentazione inviata a suo tempo è esaustiva non occorre inviare nulla adesso sul caso specifico non riusciamo né io né i colleghi a dare una risposta esauriente comunque la documentazione è stata inviata verrà esaminata al momento della liquidazione se dovesse mancare qualcosa verrà chiesta un'integrazione l'allegato l'allegato iniziale che viene citato qua era un primo allegato predisposto dal ministero in cui si chiedeva di individuare l'abbinamento tra le checklist e il progetto per i casi già avviati prima del bando quindi era un un abbinamento diciamo di checklist a casi a situazioni pre-bando dove poi occorrerà che un professionista terzo diverso dal progettista asseveri che tutta la parte di NSH è stata nei fatti rispettata questo è un elemento che deve essere considerato un punto fondamentale questo perché Giulio una cosa importante è capire anche le opere realizzate pre-bando come devono rispondere al NSH non è che ci si dimentichi del NSH per le parti già eseguite quindi quello che dice Giulio è fondamentale l'asseverazione sul NSH del tecnico che deve portare il vecchio diciamo progetto la parte già realizzata nel nuovo e quindi allinearsi al NSH una domanda se mancasse per concludere se mancasse qualche documentazione signor Vai la chiederemo nella fase di verifica e le fa chiesta un'integrazione specifica adesso non è il momento di andare a integrare cose già fatte una domanda sui giustificativi dei pagamenti per giustificativi dei pagamenti delle fatture oltre alle copie contabili dei bonifici occorre inviare gli estratti i conti bancari e il conto PNRR vedo già Riccardo che annunisce esattamente non basta il bonifico perché non è sufficiente a dimostrare che quella spesa è stata acquitanzata completamente ma è necessario collegarlo all'estratto conto di ferimento di quell'operazione con quello abbiamo il quadro completo per poter dire che l'operazione è stata completata ed è perfezionata quindi oltre al bonifico anche l'estratto conto se non l'avete inviato con la richiesta di sal noi facciamo delle richieste di integrazioni specifiche vi chiediamo essenzialmente copia degli estratti di conto trimestrali che fanno riferimento a quell'operazione in attesa di avere dei nuovi quesiti se Riccardo che è nella fase della liquidazione vuole sviluppare delle ulteriori richieste da parte del materiale della documentazione che sta arrivando per il sal in particolare possiamo farlo qui da un punto di vista proprio di ricordare un po' quelli che sono gli allegati fondamentali per andare a liquidare i sal parliamo ora di sal in questo caso quindi quali sono gli allegati che noi dobbiamo verificare al di là delle fatture la riconducibilità dei cup gli allegati che ci attestano la titolarità perché anche sull'impresa è importante questo è stata una cosa che è stata chiarita più volte il titolare effettivo dell'impresa che così come ad esempio il dnsh l'impegno dell'impresa che svolge i lavori a rispettare il dnsh che è uno dei punti carenti sempre nella documentazione che ci sta arrivando prego Riccardo giusto Lorenza ecco su questo faccio un piccolo appunto uno degli elementi carenti è la presenza del contratto spesso nella documentazione che abbiamo individuato non c'era il contratto e comunque in fase di integrazione vi abbiamo chiesto gli elementi specifici del contratto relativi al dnsh perché anche l'impresa deve essere resa edotta che deve rispettare tali coesiti richieste tali adempimenti per cui vi abbiamo anche chiesto qualora non sia presente nel contratto se avete fatto un addendum o un ulteriore elemento integrativo del contratto che consenta di vedere se è stato resedotto l'impresa che esegui il lavoro di questi adempimenti altri elementi come vi avevamo già fatto vedere nelle slide sono gli elementi caratterizzanti dell'impresa come l'iscrizione in camera di commercio il DURC o il tema della SOA che abbiamo già trattato o le eventuali eccezioni in merito e direi che vi è molto d'aiuto seguire i punti elenco presenti a pagina 17 del Vademecum che richiamano gli specifici allegati che dovete trasmettere ritorno sul tema delle fatture quindi le fatture elettroniche o cartacee qualora non ci fosse tale adempimento a capo del vostro fornitore o dell'operatore economico o del tecnico che avete incaricato mano a mano i bonifici di pagamento e gli estratti conto relativi a quei bonifici di pagamento in maniera tale che si dimostri che la spesa è stata quetanziata bene grazie mentre vedo che Giulio sta condividendo il Vademecum faccio una domanda sempre legata alla contabilità al posto dell'estratto conto è possibile mandare la quetanza del bonifico Riccardo? si può acquisire specifica dichiarazione la soluzione migliore è comunque sempre l'estratto conto con il bonifico bene sulla deducibilità fiscale ci chiede Baeguera riguardo alla deducibilità fiscale vorrei chiarire un dubbio le spese non ammissibili possono essere portate in detrazione fiscale il 20% di quelli ammissibili che rimangono a carico mi sembra abbiate detto di no ho visto la risposta del sole 24 ore che riteneva potesse essere oggetto di bonus o ristrutturazione anche il 20% non rimborsato ecco sul doppio finanziamento affrontiamo anche questo tema perché è nell'allegato 16 bis ma secondo me ha bisogno di un approfondimento se Riccardo il credito di imposta per esempio è compatibile nell'ambito di un progetto di questo genere purché io vada a individuare la spesa ma che non sia un frazionamento artificioso di quella spesa che vado a rendicontare se io il classico esempio il fornitore di installazione di infissi se io lo fraziono tra più forme di finanziamento questo non è corretto se io invece ho una spesa che vado a rendicontare e una spesa invece che rendi conto ma che è finanziata nell'ambito del credito di imposta questo è compatibile non è compatibile che sul determinato tipo di progetto ci siano due fondi di finanziamento europei in quel caso si esclude il 110 o comunque altre forme di finanziamento mi sembra sia proprio stato messo in evidenza a pagina 10 del Vademecum che comunque non è compatibile con il nostro progetto infatti c'è scritto a pagina 10 si evidenza che i beneficiari che hanno usufruito o intendono usufruire di bonus fiscali quali ad esempio super bonus sisma bonus bonus facciate bonus ristrutturazioni non potranno in fase di rendicontazione presentare in bolso fatture relative a lavorazioni per le quali hanno precedentemente usufruito o intendono in futuro usufruire dei bonus fiscali a tal fine il format di domanda di pagamento intermedio e domanda di pagamento finale prevede un'apposita dichiarazione questo è quanto abbiamo previsto poi andremo a vedere il caso specifico magari come è costruito in termini di finanziamento da altre fonti è una domanda sempre da chiarire sul discorso del 31 12 20 25 dove si trova la modifica ufficiale del termine ultimo dei lavori la trovate sicuramente sul lato d'obblighi che abbiamo uniformato con quello delle altre regioni per cui siamo passati dal marzo come definito da noi nel bando al 31 12 20 25 per poterci allineare a tutte le altre regioni che ponevano la fine dei lavori in questa data e dar la possibilità a tutti di finire con un margine con un agio maggiore altre domande vediamo dice Riccardo Pastore ci chiede si deve compilare ed inviare la checklist per la verifica della regolarità amministrativo contabile delle spese Giulio questa è la checklist ultima che abbiamo approvato esatto questa no quella non è compresa nel Vademecum è il nostro strumento di lavoro per cui con quella potete fare una verifica di quelle che sono i controlli che noi facciamo per potervi liquidare e quindi non è un'autocompilazione come in altri casi però può essere un ottimo strumento per verificare la completezza della documentazione che ci state trasmettendo nella fase di rendicontazione perfetto è così perché così vi fa capire anche noi quando andiamo a valutare la documentazione che cosa stiamo guardando ed è molto utile anche per voi è una sorta di prova del 9 esatto lì vedete gli estremi di quelle che sono le nostre verifiche di quelli che sono i documenti che andiamo ad accertare di quelle che sono le domande che dobbiamo rispondere e che a sua volta sarà l'oggetto di controlli successivi da parte del MEF per esempio sai cosa però se è venuto il dubbio magari mettiamo sul sito una riga dove abbiamo pubblicato la check in cui mettiamo da non compilare cioè è nostra la compilazione a carico nostro lì l'abbiamo pubblicata appunto per dare a voi un riscontro per capire se state caricando tutta la documentazione che noi verificheremo magari ve lo espliciamo meglio sul sito sì perfetto no ma direi che il chiarimento di Riccardo è stato pertinente anche perché ci aiuta e vi fa capire anche quando voi ci mandate le certificazioni ad esempio pensiamo ai DURC che è una cosa che per molti manca cioè quindi sul discorso dei contratti delle imprese del rispetto del DNSH da parte dell'impresa dei DURC delle certificazioni ecco la checklist che dobbiamo compilare noi come ente diciamo come liquidazione vi fa capire la documentazione per ora non ci sono ancora delle domande se ecco vedo un nuovo post arrivato giusto ora l'ingegner Gottarelli oggi ci pone moltissime questioni perché ci è richiesto di agire come un ente pubblico sulla verifica delle certificazioni delle imprese dei fornitori la nostra dirigente annuisce come anche la dirigente Gagliotto quindi se Cristina vuoi spiegare tu questo ingrato compito che ci tocca purtroppo è una questione che abbiamo posto tutti i soggetti attuatori di questo investimento e quindi le regioni al MIC che deve intercedere e dialogare con il MEF purtroppo le modalità previste per il PNRR e tracciate negli atti d'obbligo nei vademecum in tutti in Sigeco e tutto quanto non hanno distinto non hanno minimamente distinto il fatto di avere come interlocutori destinatari che sono soggetti pubblici o soggetti privati che si tratta di lavori oppure interventi pubblici oppure su proprietà private purtroppo non c'è non c'è verso abbiamo e quindi sono fondi sono fondi pubblici sono fondi comunitari e questa è la regola non so se Sabrina vuoi aggiungere no no sei stata chiarissima cioè potremmo anche prendere specifici punti che abbiamo discusso a partire dal discorso dei preventivi no dell'attenzione ai fornitori e quant'altro perché uno è privato potrebbe decidere di affidarsi a un fornitore liberamente scelto sul mercato nel rispetto delle norme generali del nostro paese ma non basta non basta purtroppo non dipende da noi e non ci possiamo fare niente il PNRR prevede questo e obbliga a questi adempimenti al rispetto di queste regole infatti posso aggiungere scusa posso aggiungere semplicemente che almeno la riflessione che in corso d'opera stiamo facendo ma dal 2022 è questa che questa misura dell'architettura rurale che abbiamo salutato tutti come innovativa inedita finalmente un'attenzione alla riqualificazione del paesaggio rurale che è vero di gran lunga un paesaggio che appartiene ai privati cittadini l'abbiamo salutata come una una bella risorsa una bella occasione peccato che nell'impianto normativo e nell'impianto di rendicontazione contabile questa misura sia stata trattata alla stregua delle grandi opere di efficientamento energetico di sismica di energie rinnovabili dove i soggetti beneficiari o comunque attuatori hanno ben altro profilo ecco a questo proposito visto che ci sei Cristina forse anche una cosa per te anche se posso avere in parte anche la risposta io mi dice questo nostro beneficiario premesso che il Vade Mecum è stato pubblicato nel marzo del 23 dove sono indicati nel Vade Mecum i requisiti di ammissibilità delle imprese per interventi sui manufatti vincolati dalla soprintendenza nel bando dove sono indicati allora ribadisco il concetto poi di Stambrosini che è più titolata di me perché è un rapporto del progetto nel suo iter normale voi avete dei referenti quando avete un progetto vincolato che sono le soprintendenze quindi gli articoli 21 l'iter è identico per qualsiasi progetto quindi ci sono gli enti territoriali i comuni e le soprintendenze quando si tratta di beni vincolati non è che c'è bisogno di scrivere una specifica sapete che quando si presenta un progetto di un bene vincolato quello è l'iter non ci sono delle altre strade quindi queste cose non sono state definite da un bando ad hoc sono nella natura dei progetti che si presentano non so se ho chiarito sufficientemente in modo sintetico leggo invece un acquisito forse per Riccardo occorre allegare tutti i DURC del periodo inizio fine lavori no quello che noi chiediamo è il DURC al momento della sottoscrizione del contratto e vi ricordo che il contratto potrebbe non essere potrebbe essere semplicemente l'approvazione di un preventivo ovviamente nell'approvazione di un preventivo manca la parte di NSH ed ecco perché a volte vi chiediamo l'integrazione se in relazione a quello avete aggiunto anche un addendum però è in quella fase lì quando andate a perfezionare il contratto con il vostro prestatore d'opera o la vostra presa appaltatrice essenzialmente avete acquisito il DURC e avete a massimo una visura camerale una domanda invece per Giulio quando si parla di spostamento del 10% degli importi delle macrovoci all'interno del QTE cosa si intende? La spesa maggiore ovviamente dell'esecuzione lavori punto A posso aumentare quella massimo del 10% oppure posso spostare al massimo il 10% delle sottovoci punti B C D è molto particolare però cerchiamo di riassumerle la sostanza diciamo sostanzialmente nella variazione di questo importo di spesa Abbastanza confusa la domanda non l'ho capita esattamente do qualche chiarimento sul come gestire il quadro tecnico-economico in una variante può variare nelle sottovoci può variare nelle macrovoci e le variazioni possono essere più o meno del 10% nelle macrovoci per macrovoci si intende la A la B la C e la D non le sottovoci opere D li restauro impianti che sono sottovoci della macrovoce A questo per capire che cosa si intende per macrovoce le variazioni superiori al 10% devono essere approvate le variazioni inferiori al 10% vanno solo comunicate se la variazione avviene perché c'è anche una modifica di lavorazioni è bene che ci sia una richiesta di autorizzazione alla modifica della lavorazione specifica per accettare che non ci sia uno stravolgimento del progetto questo è l'elemento sostanziale da verificare con direi non altro poi molti hanno fatto variazioni per cercare di compensare internamente tutti i progetti sostanzialmente hanno dovuto affrontare l'elemento la congiuntura che si è verificata nel settore con poi l'effetto del super bonus e più in generale altri fattori c'è stato un aumento dei costi anomalo e abnorme per cui ciò che è stato progettato in maniera preliminare nel 2022 ha avuto un aumento dei costi e tutti i progettisti hanno cercato in qualche modo di ricondurre i progetti dentro un budget sostenibile per il beneficiario chi non è riuscito a fare questo ha rinunciato al finanziamento e ha abbandonato l'impresa oggettivamente l'abbiamo riscontrato anche questo quindi tutte le variazioni all'interno del quadro tecnico economico vanno in qualche modo comunicati e sono valide tutti gli aggiustamenti che possono essere possibili cercando di ridurre alcune lavorazioni perché altre lavorazioni hanno avuto maggiori costi questo è compito del progettista bene grazie Giulio c'è sempre una domanda per te sull'NSH perché ormai si è il nostro punto di riferimento nell'allegato 16 io non so a che cosa si riferisca perché l'allegato 16 per me riguarda il doppio finanziamento però DNSH riguardo alla scheda 12 quindi c'è la scheda 12 quella sul fotovoltaico si chiede la dichiarazione che il fornitore di energia elettrica garantisce fornitura elettrica al 100% rinnovabile potete per cortesia chiarire esiste un albo dei fornitori che hanno solo energie rinnovabili invito chi fa la domanda a verificare se sta applicando il regime 1 o il regime 2 perché potrebbe essere lì forse un un misintending nella scheda nella scheda 2 e invece una domanda di Alessandro Bertani in generale nel caso di un progetto concluso per il quale è stata già trasmessa la richiesta di saldo per documentazione non prodotta perché richiesta dalle nuove checklist è da produrre sempre comunque perché sono checklist retroattive allora se è già un saldo direi di sì dovete allineare le checklist alle nuove disposizioni date dal MEF perché mentre in fase di sal siamo ancora nella fase in cui possiamo lavorare sull'ex ante le schede dopo qua siamo già nella fase ex post quindi siamo nella fase di liquidazione finale e le checklist devono essere quelle corrette quindi non so se ho risposto io per tutti ma direi che è così le checklist danno essenzialmente il confine del nostro controllo questo è uno strumento che ci è stato dato dal MIC in accordo con il MEF e quindi rappresenta quello che noi verifichiamo sui vostri progetti che non sono retrattive diciamo che è lo strumento che condensa tutto il ragionamento precedente ecco una domanda sempre sul discorso del fotovoltaico che ci arriva è la decisione di escludere il fotovoltaico nel caso descritto prima non so se intende escludere comunque può essere posto come prevalutazione da parte vostra per una domanda specifica alla vostra peo prima di procedere per evitare diminuzioni impattanti del punteggio di ammissione ma qua non parliamo di punteggi di ammissione parliamo proprio di rendicontazione di progetto che è una cosa diversa ma i punteggi di ammissione sì lo capiamo perché molti hanno avuto una punteggiatura ma in questa fase si tratta di far rendere compatibile il progetto con quello che citano le checklist più che altro non so se Giulio vuoi aggiungere qualcosa è un caso molto specifico noi non dovremmo fare i consulenti dei consulenti sinceramente nel nostro lavoro mi pare Cristina però in un rapporto che ci ha sempre chiesto la dottoressa Ambrosini di avere con i nostri beneficiari di affiancamento non di contrapposizione un'interlocuzione forse è possibile in linea generale non certo la consulenza della consulenza bene sempre un anonimo ci chiede la mia piattaforma ecco le mie domande nella fattura forse è un caso specifico che dobbiamo poi andare a analizzare perché una parte delle risposte ce le avrà nelle slide e poi al massimo il caso specifico lo andiamo a esaminare separatamente vedo adesso che sto dipanando la domanda è un caso specifico che riporta addirittura dei dati molto privati e personali che non vi invito a mettere qua sopra perché non è questa la sede però ci sono dei nuovi post vediamo sui giustificativi di spesa per quanto riguarda i giustificativi di spesa come impresa affidataria ai nostri fornitori facciamo già indicare il codice CUP del cantiere a cui la fornitura fa riferimento è però necessario che tutti i nostri fornitori oltre al CUP indichino anche la dicitura progetto PNR finanziato dall'Unione Europea eccetera eccetera o è una condizione che si applica solo tra beneficiario impresa affidataria per liquidazione stati di avanzamento saldo Riccardo la condizione minima è che sia nel rapporto tra voi e diciamo l'impresa i passaggi successivi se ci sono dei subappalti o delle gestioni di sub forniture da quel lato lì se è indicato il CUP c'è la massima trasparenza del procedimento ma quello che a noi interessa è quello che rendi contate a noi come fatture bene per quanto riguarda la risposta che il signor Lorenzo Sarti dà sulla richiesta di Giulio regime 1 regime 2 parla di regime 2 e quindi lista fornitori per il discorso della produzione di energia come chiedeva nella sua domanda devo dire che ecco io mi riaggancio a quello che ha detto Giulio non siamo i consulenti dei consulenti per cui io vi invito anche a leggere attentamente le disposizioni del Dnsh e tutto quello che sul sito governo.it è stato inserito perché poi saranno anche i vostri tecnici i vostri esperti che possono darvi un aiuto su questo fronte perché ognuno di voi ha dei casi molto particolari quindi anche sul Dnsh direi che occorre purtroppo studiarselo lo so non escludo che si possa fare un approfondimento puntuale anche perché per rispondere puntualmente avrei bisogno di fare anche io qualche domanda puntuale quindi forse non è questa la sede per poter concludere questa richiesta bene in questo momento non ci sono delle nuove domande se ci sono degli approfondimenti che vogliamo portare perché ci siamo dimenticati qualcosa sempre sul discorso produzione allegati e documenti per i sal e per i saldi ha ricordato ha ricordato Giulio la relazione del Dnsh è molto importante queste in pochissimi le hanno prodotte quindi noi ci troviamo nella condizione in questa fase per liquidare il sal e in particolare di chiedere delle integrazioni documentali ecco quando arrivano le vostre richieste di sal siete pregati di controllare attentamente se i documenti ci sono tutti anche perché il tempo passa ulteriormente da quando mancano i documenti quindi anche noi le nostre istruttorie riusciamo a portarle a compimento con più lentezza non so se ci sono delle cose che vogliono aggiungere i colleghi i dirigenti a questo proposito ecco ci sono dei post così vi tolgo dalla condizione allora l'ingegner Gottarelli ci date una mano saldando subito il sal 50% che ha anticipato tutto ed è in difficoltà economica rimandando al saldo finale l'integrazione eventuale di ogni fattispecie di documento richiesto noi ci stiamo provando a dare una mano a tutti era la conseguenza della cosa che ho detto prima più noi abbiamo gli allegati in diciamo così in sintonia con le richieste chieste dal vademecum e che potete anche riscontrare nella checklist perché anche la checklist è uno strumento molto utile per capire la conformità del vostro progetto in fase di liquidazione e più noi siamo celeri nelle nostre parti di liquidazione un nuovo post vediamo la capienza della PEC ecco la capienza della PEC abbiamo detto se non sbaglio era stato anche risposto dal nostro ufficio 100 megabyte non so se 100 megabyte confermo 100 megabyte mi ha verificato esattamente quindi nell'ipotesi potete frazionare con più PEC l'invio se la diciamo la documentazione è più corposa sì abbiamo visto che finora ha funzionato così perché la mole di materiale che arriva è tantissima e mediamente molti hanno frazionato questo proposito se posso aggiungere alcuni hanno mandato documentazioni carenti incomplete scarse eccetera eccetera alcuni documentazioni ridondanti e soprattutto alcuni professionisti abituati a rendicontare le soprintendenze su beni vincolati eccetera hanno mandato una quantità di foto veramente esorbitante che non è necessaria per noi cioè noi dobbiamo semplicemente verificare che l'intervento stia procedendo stia avanzando ci sia conformità tra la relazione periodica e quanto viene dichiarato ci sia corrispondenza tra le cifre richieste e quanto realizzato e dichiarato nella relazione periodica non è compito nostro di fare il lavoro che è già affidato a una soprintendenza sui beni vincolati quindi questo non è il nostro mestiere in questo momento quindi non esagerate mi viene da dire con le documentazioni fotografiche che appesantiscono molto e rendono poi difficile lo scarico dei documenti eccetera eccetera e però è importante allegare negli stati di avanzamento ricordiamo sempre che lo stato di avanzamento non è soltanto una certificazione scritta ma è anche documentale fotografica di come stanno procedendo i vostri lavori in cantiere a questo proposito lancio un appello perché ce lo siamo detti tra noi come gruppo di lavoro mancano ancora tanti allegati 18 che sono quelli dell'avvio del cantiere quindi è necessario a un anno da quello che è stato il 30 giugno 23 dove abbiamo messo prevalentemente l'avvio delle attività per molti che non avevano ancora avviato il cantiere che ci mandiate gli allegati 18 che sono quelli probanti l'avvio anche del cantiere è importantissimo questo soprattutto è importante se voi fate andate a saldo e andate a saldo senza questi documenti sono fondamentali questi documenti queste sono proprio le prime documentazioni necessarie non ci sono delle altre domande se vogliamo anche sempre aggiungere dei punti che ci siamo magari dimenticati di sviluppare su dei temi non mi sembra penso che nella mattinata abbiamo veramente risposto un po' a tutte le vostre domande che erano giunte anche nel form di iscrizione ma che sono anche giunte con la posta ordinaria che vi ricordo era stata pubblicata prima nella slide adesso la è pubblico esatto che è architetturarurale chiocciolaregione.emilia-romagna.it lì noi abbiamo sempre vi dico che nell'arco dei due anni abbiamo smaltito circa una quantità di 8000 task di domande con un gruppo di lavoro anche abbastanza esiguo quindi abbiamo cercato di aiutare tutti i beneficiari anche nella possibilità di avere una risposta rapidissima a quello che ci ponevano poi insomma anche i nostri tempi di risposta dovete essere comprensivi perché siamo veramente non tantissime a lavorare a questo bando quindi altre cose non vedo delle domande quindi suppongo ecco un nuovo post c'è ora Camilla Rossi che dicitura dobbiamo mettere nel contratto relativamente al rispetto del dnsh a proposito di contratti di affidamento dei lavori non è tanto la dicitura mi permetto di aggiungere una cosa io è il fatto che l'impresa deve quantomeno scrivere una dichiarazione allegata al contratto che attesti che si impegnano a rispettare il dnsh che tutela poi voi da questo punto di vista e questo ce lo chiede veramente il ministero lo vedete anche nella checklist che avete potuto vedere condivisa con la determina ecco c'è un nuovo post se ci sono degli altri no mi permetto di aggiungere su questa cosa la dicitura del contratto se il dnsh è stato correttamente interpretato è una logica che deve aver permeato l'intera progettazione e quindi il progettista deve sapere quali sono gli impegni che vanno rispettati nell'assistere il committente il beneficiario a stipulare un contratto di fornitura il progettista dirà quali sono le clausole che devono essere rispettate è inutile che io faccia degli esempi specifici ma non ha senso chiedere clausole di rispetto sulle rubinetterie se si sta appantando il restauro di un affresco dentro un oratorio ma non ha senso non dire niente se si affida dei lavori a un idraulico che dovrà montare degli impianti indici che dovrà sapere quali requisiti dovrà rispettare ecco dovrà essere valutata poi caso per caso ecco sì anche sul doppio finanziamento sul discorso anche dei finanziamenti nazionali possiamo fare un esempio Giulio che ti viene benissimo questo esempio dei serramenti ma che però ti dà l'idea di cosa vuol dire sapere che non potete finanziare con gli stessi con un doppio diciamo con un finanziamento nazionale una stessa opera questo è molto importante se Giulio vuoi approfondire tu questo aspetto direi in linea più generale se il finanziamento è all'80% il 20% lo deve mettere il beneficiario punto se invece di metterlo il beneficiario lo mette lo Stato non è più un finanziamento all'80% è un doppio finanziamento sulla medesima opera se all'interno di un progetto complessivo alcune parti vengono finanziate con altri finanziamenti bonus fiscali o altri tipi di agevolazioni queste fanno parte delle spese non ammissibili cioè costituiscono l'insieme del progetto ma non l'insieme delle spese ammissibili che devono costituire l'oggetto principale di questo finanziamento per poter distinguere ed evitare il doppio finanziamento il vademecum è abbastanza tassativo cioè sulle stesse forniture sulle stesse opere non si può spacchettare la fornitura dicendo due finestre le finanze col bonus fiscale e due finestre le finanze col PNRR questo può essere l'esempio forse un po' banale ma per dare l'idea sì una domanda di Alessandro Bertani e questo è interessante sulla fruizione perché è la prima volta che adesso sulla fruizione è un tema importante soprattutto per chi va a saldo finiti i lavori la fruizione dei beni va sempre documentata trasmettendo di volta in volta la documentazione relativa agli eventi o è sufficiente tenere in archivio la documentazione che permette di tracciare l'evento beh posso rispondere anch'io la fruizione prima di tutto va accompagnata con una relazione finale quando si va a saldo perché deve essere relazionata quali saranno le attività che consentiranno la fruizione di questo bene recuperato oltre al fatto che dovete apporre le targhe per dire che comunque questo è una parte di un bene che è stata recuperata con fondi RRF va mandata una relazione sulla fruizione questa è una delle cose che stiamo chiedendo soprattutto per coloro che vanno a saldo è importante anche scrivere in questa relazione quali sono gli accordi che avete preso a livello territoriale per poter garantire la fruizione con enti associazioni e poter sviluppare anche in quali giorni pensate di tenere aperto il bene ecco la relazione deve essere una relazione che certifica testimonia della vostra volontà di far fruire pubblicamente il bene non so se Cristina vuole aggiungere qualcosa quindi dicevi le quali attività quali iniziative e le modalità quindi a conclusione dell'intervento ci va una relazione esaustiva di questo poi non chiediamo evidentemente che venga presentata la documentazione spicciola della singola iniziativa è buona cosa per un congo numero di anni mantenere traccia di questa attività ma non è richiesta diciamo nello specifico sulla fruizione è giusto e ringrazio per la domanda è giusto fare una riflessione appunto dedicata perché se vi ricordate certamente vi ricordate il tema della fruizione pubblica è proprio l'obiettivo più alto più ultimo più diciamo più alto più importante da un certo punto di vista di questo di questo bando cioè trattiamo di beni di proprietà privata che però contribuiscono nella loro consistenza a a formulare quello che è lo scenario del nostro paesaggio rurale e quindi il discorso di un recupero di questi beni che consenta forme diversificate che comunque sono già state indicate nella scheda suo tempo presentata e allegata alla domanda di fruizione pubblica fruizione cioè aperta a tutti che si deve chiaramente declinare sul tipo di intervento che è stato finanziato per cui se si tratta di situazioni in cui ci sono spazi che si concedono per eventi pubblici oppure si parla di iniziative come visite guidate presentazione a tema oppure spazi che vengono messi a disposizione di realtà associative o che entrano nei circuiti negli itinerari e nelle iniziative territoriali in particolari giornate significative per le comunità locali ecco questo deve essere evincibile si deve comprendere leggere e deve essere convincente quindi mentre noi abbiamo nella nostra memoria i contenuti e le formulazioni presentate nelle schede all'epoca della candidatura a consuntivo bene recuperato con anche un rapporto molto diretto rispetto al motivo del recupero in una certa direzione la scheda di frizione deve essere più concreta evidentemente la relazione finale bene grazie vedo che per ora delle altre domande non ce ne sono ci avviamo verso la conclusione quindi direi che siamo praticamente stati nei tempi di che ci siamo dati per questo webinar noi siamo disponibili scusa volevo anche ringraziare Rita Savigni che è con noi la nostra collega e ci sta garantendo un devo dire perfetto funzionamento tecnico di questo webinar e quindi niente mancava non l'avevamo citata all'inizio ma è importante anche la figuratività sì direi che come vedete cerchiamo di raccogliere in momenti particolari anche in fasi peculiari degli interventi tutti i quesiti che possono rappresentare un patrimonio condiviso di riflessioni di approfondimenti per tutti questo era uno di questi momenti perché stiamo entrando finalmente avete tutte le ragioni per diciamo rappresentarci un po' questo affaticamento no nell'avvio della fase di rendicontazione e che è prodromica quella della liquidazione ci siamo ci siamo le nostre squadre si stanno diciamo anche robustendo anche per la parte tecnica avremo a partire dal mese di luglio con ogni probabilità tre consulenti tre supporti tecnico-operativi specialistici che dedicheremo alle istruttorie per accompagnare e affiancare i colleghi Gagliotto e Pacchioni appunto per la rendicontazione e la liquidazione e questo quindi era un momento da utilizzare così anche prima dell'avvio dell'estate vera già il caldo è arrivato e lo sentiamo per fare il punto chi ha chiesto anticipazione con presentazione di Polizia Fiderussoria vi confermo mi potete confermare che sono stati tutte espletate e quindi sono state tutte liquidate una probabilmente l'ultima è in corso ma è già avviata e quindi questa parte l'abbiamo assolta adesso come si diceva poco anzi appunto si è addirittura d'arrivo con i primi sal quelli al 50% chi ha chiesto una liquidazione intermedia per quanto riguarda i saldi sappiamo bene siamo consapevoli che ci sono stati presentate delle documentazioni di alcuni interventi conclusi aspettiamo di completare appunto il quadro delle competenze dello staff interno anche con esperti di NSH per poter procedere perché sul saldo effettivamente non abbiamo più una seconda possibilità il saldo è il saldo e quindi però adesso lo staff è completo e procediamo Bene non vedo delle altre domande magari non direi di no quindi se non ce ne sono altre direi che possiamo anche ritenere chiusa questo webinar speriamo di essere stati esaustivi poi comunque con la nostra casella di posta a Peo tutti i quesiti individuali e molto specifici pensiamo di potervi aiutare in questo modo cioè qualsiasi altra domanda che attiene a delle cose un pochino più generali e personalizzate sui singoli casi noi siamo a disposizione sappiate penso che questo l'abbiate mai percepito nel nostro lungo rapporto epistolare quando vi arrivano delle pec con delle note che sono circolari per tutti o ci sono degli aggiornamenti sul sito è quasi sempre perché ci arrivano delle indicazioni aggiornate e delle disposizioni dall'amministrazione titolare non è una nostra volontà di architettare dei paletti e degli ostacoli è proprio che nel momento in cui ci arrivano dall'amministrazione titolare richiedono degli adempimenti obbligatori all'amministrazione al soggetto attuatore e quindi di converso noi cerchiamo quanto più tempestivamente possibili di avvisarvi quindi come ricordava Lorenza il nostro sito la pagina con appunto il box che vi ha mostrato tenete presente di andare a consultarlo periodicamente per cerchiamo di mettere sempre in pole position le indicazioni e le informazioni più recenti e comunque è sempre in aggiornamento confermo che resta il punto di riferimento anche per noi i rendiconti di liquidazione cioè non dirottiamo le nostre comunicazioni sulla nostra sezione perché creeremo solo confusione quindi esternamente beneficiari come è giusto che sia ci vedono come un tutt'uno regione o internamente è chiaro che noi agiamo in segregazione delle funzioni però il punto di riferimento e di raccordo resta patrimonio culturale quindi non cercate in altre zone del sito della regione trovate sempre tutto lì dove siete stati abituati finora solo un ringraziamento anche ai partecipanti perché hanno anche loro tanta pazienza vedo che ci stanno anche ringraziando vuol dire che le nostre comunicazioni qua a qualcosa sono servite perché vedo che ci stanno ringraziando e quindi ci fa piacere capire che è stato un momento anche di chiarezza grazie ai colleghi di tutto quello che è il lavoro che ci impegna già da almeno due anni quindi prossimamente metteremo le slide della registrazione sul nostro sito e andiamo avanti cercando di arrivare in fondo perché anche per noi è una cosa abbastanza scusate abbastanza faticosa perché ci siamo in pochi e le domande sono sempre nuove abbiamo sempre delle nuove sfide scusate e quindi bene io direi che possiamo salutarci buona giornata buon pomeriggio buona giornata a tutti grazie grazie arrivederci grazie arrivederci